Benvenuti a Compila, quindi va. Eccoci. Buonasera. Passerà mai sta tosse. Benvenuti a Compila, quindi va. Benvenuti a Compila, quindi va. È chiaro? Ciao Giancarlo. Ciao Ide. Devo imparare come si dice questo nick per Ide Simon. Simon? Jemon? Troppo complicato. Vabbè che il mio non è poi così semplice, però. Ciao Crickolo87. Ciao a tutti. Ah, ok. Ho indovinato. Ho fatto. Cristian è ok, il nome è più facile. Cristian perché sei quel Cristian che conosco, oppure Cristian perché il nome Cristian era giusto per quello che doveva andare a vedere un film, oppure... mi sembrava aversi un altro nick. No, no, niente. Mi confondo, ormai mi confondo le cose e quindi non... ho la camo un po' stoata, però non tocco niente stasera perché aveva già fatto fin troppi danni. Vabbè, chiudiamo la sigla così... che non serve più, poi ogni tanto lancio un po' che è quello che diresti se tu fossi quello, quindi non so se fidarmi a me. Aiuto. Ho mangiato da poco e quindi ho tutto il... sono tutti in subbuglio. Ciao Muzio, buonasera anche a te. Ben arrivati, ho un sacco di... stasera mi sa che non c'è la partita di calcio perché c'è troppa... c'è troppa gente rispetto al solito e quindi vuol dire che... io che non le guardo comunque le partite, quindi... esce il gatto, lo vogliamo, può darsi che si faccia anche vedere perché non... non gli ho dato da mangiare, cioè non gli ho dato la seconda razione e quindi... quello dopo la carne perché c'è l'umido e il secco, quindi... lui fondamentalmente quando... due volte al giorno mangia l'umido. Quando non c'è l'umido diciamo che lui o dorme o quando si sveglia ci deve essere il secco, altrimenti... altrimenti si lamenta e quindi... però può darsi che se lo chiamo... preso dalla fame, arriva... magari lo si vede... eccolo! Cazzo come... hai beccato eh! Sei ingannato eh! L'ho ingannato mestamente, il problema è che adesso non mi farà vivere se... sei stato fregato, ti ho svegliato... mi sta guardando con l'espressione come dire... che mi hai chiamato a fare? Ecco, se ne è tornato... lo vedete qua nel... dov'è qua? nell'angolo della porta che se ne va mestolo... eccolo che trovo... adesso mi vennerà a picchiare perché dicevo mi chiami e poi dopo mi mandi via... ci hai richiesto eh! Cosa ti devo dire? Ci hai richiesto? devo spiegarti Delphi e quindi devi stare qui no? eh... 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 adesso mi mordi polpacci e quindi... tra un po' ti si si... tra un po' mi... questa mattina mi ha cacciato una sgagnata sul... dicesi sgagnata, una mozzicata sulle torne... lo vedo qua che sta tornando via... di là... se lo torno a chiamare torna qua e dopo mi meno davvero... meglio non... meglio non farlo incazzare quindi... vabbè c'ha delle cose... cioè anche se non parla è un libro aperto... ho dato una mozzicata perché mi stavo alzando... aveva fame... io mi stavo mettendo il mio orologio al pulso... lo stavo attivando... stavo spegnendo le sveglie... si vede che oggi era particolarmente affamato... e quindi io ci stavo mettendo un po'... ha pensato di darmi un attimo di... la schicchera... dandomi una mozzicata proprio sul... sul piede e quindi... si è preso un mezzo calcio... niente di permanente però... come dire... quantomeno... gliel'ho fatta un po' penare quindi... maledetto gattaccio... ma non mi posso neanche lamentare di questo gatto che è bravissimo e buonissimo... mangia solo come uno scriteriato a parte quello ma... e non vuole imparare a programmare in debito ma quello è un altro discorso... ciao Andrew... anche Andrew è un nome che non mi è nuovo... però bisogna sempre... io c'ho un bollino rosso qui... non è un artefatto però... si vede che mi sono... grattato... sono giorni un po' concitati lavorativamente parlando e quindi... però dal nick forse sei... quell'Andrew... con cui ogni tanto ho parlato su Instagram penso... che oggi tra l'altro era... c'era Instagram, Facebook completamente giù... e infatti ho detto... dai che finalmente sono scoppiati tutti i social... finalmente sono scoppiati come dovrebbe essere... e invece no... è stato solo un problema temporaneo... che poi in realtà... se non si riesce a fare il login... è tanto meglio... nel senso che così si prende una pausa dai social... il mio... io mi ero un attimo agitato... perché pensavo che qualcuno mi avesse fregato l'account... perché provi a entrare... e ti dice che la password non è buona... o cose del genere... mi sono detto... stai a vedere che... alla fine... però ricordo di avere... l'identificazione a due fattori... anche perché non faccio mai... non faccio mai live di... ma nel prossimo delle live... ho intenzione di parlare anche dei thread... beh... sicuramente è un argomento... da trattare... quello senz'altro... non so quando ci arriveremo... infatti adesso... siccome ho delle cose un po' da sperimentare... stavo pensando di... di farla a doppia live... però devo trovare una... una settimana scarica... una settimana poco impegnativa... per potermi... quantomeno gestire... a parte che faccio sempre tardi... anche martedì sera... dico sempre... vabbè... alle 11 e mezza basta... però... sì... diciamo che... l'interesse ci sarebbe... la vedrei più una cosa... un po' più... un po' più avanzata... però se ci sono cose specifiche... potremmo anche... vederlo in... in separata sede... perché è una tematica abbastanza... spinosa... e poi c'è... più che altro c'è stato un... qualche commento su YouTube... dove... qualcuno si è lamentato che... come dire... le tematiche sono troppo complesse... perché l'altra volta siamo persi un pochino... a parlare di puntatori... in realtà non mi sembrava di essere andato così in profondità... anzi... è una cosa... abbastanza... for dummies... ero anche in dubbio su... parlare della... dell'argomento di stasera... che è la Visual Forming Arritance... perché... effettivamente... è un'applicazione della programmazione oggetti... quindi prima bisognerebbe fare la programmazione oggetti... però ho pensato... magari conoscere questa invece... a livello... come dire... interattivo... senza entrare troppo nei dettagli... in paradigmi... in discorsi un po' astrusi... poteva essere interessante... perché magari... si vede quella che è un'applicazione della programmazione oggetti... e poi andando a vedere la programmazione oggetti... si vede nei dettagli... perché le cose funzionano in un certo modo... diciamo che in entrambe le strade... c'era un rischio... comunque... quindi di... di vedere... visualmente dei concetti che non sono stati approfonditi... o di approfondire dei concetti... visualmente non... ideale sarebbe fare le seme... però diventava un po'... un po' una confusione... ma... secondo me può essere propedeutico... poi è sempre qualcosa di visuale... sempre qualcosa di... voto anch'io per i thread... quindi c'è grande... come dire... grande interesse per i thread... no vabbè... sicuramente se ne... parlerà... anche perché poi queste live sono un'occasione per me... di ripassare... vabbè adesso... al momento nulla di particolare... perché comunque sono sempre argomenti... abbastanza semplici al momento... quindi magari avessi queste cose... però ecco... dal punto di vista... alcune cose magari un pochino più... più complesse... volevo un attimo aggiornarmi... e capire un pochino... delle novità... su qualche libro... qualcosa... magari da documentarmi per... per vedere assieme... anche... cioè per farli in chiave moderna... ecco... per non andare a spolverare delle cose... troppo vecchie... i thread sono un argomento abbastanza spinoso... anche se io di solito li aggiro... ovvero cerco di... dotarmi di librerie... o di approcci... che non mi facciano avere a che fare troppo... con un thread che manna gamba tesa... quindi... ehm... però ecco... da questo punto di vista... sicuramente... è un argomento che possiamo... possiamo valutare... e potremo inserire... argomento della... della sera... ehm... direi che è... la visual form inheritance... avevamo iniziato l'altra volta... a vedere un po' di... eh... finestre in generale... finestre di dialogo... avevamo dato dei ruoli ai pulsanti... sia tramite le proprietà... che tramite... ehm... che tramite il... quick designer... cioè quei... quei wizard... quei bei wizardoni... che ci sono... eh... in Delphi... al giorno d'oggi... con... la possibilità di... customizzare... eh... direttamente... pulsanti e controlli visuali... alcuni... alcuni hanno degli editor specifici... per... eh... configurarsi gli allineamenti... configurarsi la caption... i bordi... eh... parte del comportamento... margini... eccetera... e quindi... fare un po' tutto a livello visuale... senza andare... a... a sgruffolare... pubblicità... eh... buttate il telecomando... non andate via... come si dice... quindi... stasera... diciamo... proseguiamo un po' questa fase... quindi abbiamo un ingresso molto... molto morbido... però magari... man mano che... vedremo i vari argomenti... cercheremo di andare un pochino più veloce... per non rimanere inchiodati... come dire... sulle basi... per lungo tempo... anche se poi... non abbiamo... come dire... degli... degli obiettivi... in termini di tempistiche... né delle... delle cose da... come dire... da... da soddisfare... per dire... ok... abbiamo a disposizione... solo una live... diciamo... che di volta in volta... visto che... anche in chat... si sviluppa un po' di... un po' di interattività... un po' di domande... anche a livello... a livello base... è utile fermarsi... e vedere... queste cose... che magari possono diventare... d'aiuto un domani... quindi... adesso... lasciamo che questo break... finisca... e... per cui... quindi... break... partiamo... diamo un'occhiata... con... eh... all'argomento... della serata... la visual form inheritance... eh... publicità... finita... tra l'altro... me ne... me ne accorgo... perché è un banner... che compare... che mi segnala... mi consente di... di stopparla... tra l'altro... e io l'ho già fatto due volte... ho già appiggiato due volte... eh... la terza volta... mi si blocca... purtroppo... l'unico... l'unico modo... per non vedere la pubblicità... perché i signori di Twitch... vogliono... vogliono lo soldo... per streamare... e quindi... streamando... gratuitamente... non spendo niente... ma... giustamente... loro non... non incamerano nulla... purtroppo c'è... o la pubblicità... o gli abbonamenti... c'è niente da fare... quindi... siamo... siamo... così... è l'unica cosa che... blocca la pubblicità... poi... questo... ve lo dico nel caso che... eh... sì... io non ho delle... delle offerte specifiche da fare... per gli abbonamenti... perché c'è chi configura... eh... diritti le emoticon... mi piacerebbe farmele fare... delle emoticon carine... tipo... partire da... non so... uno che segue da... meno tempo... c'è il programmatore... sfigatello... l'altro c'è il programmatore... più senior... eh... però... giustamente... investire nel progetto... dovrei avere un po' di... ma... noi continuiamo... poi magari... se dovesse esserci un... buon seguito... un buon... qualcosa... per mettere in piedi... una... una community... e poi... magari vedere un po' di altri argomenti... può essere interessante... eh... anche... facendo qualche live... dobbiamo anche trovare un tema... per fare di nuovo una live... come quella che abbiamo fatto... il mese scorso... o forse è già passato... no no... era gennaio... non era il mese scorso... è già gennaio... è già passato così tanto... una bella live comunitaria... con un po' di gente dentro... magari anche persone... poi... della chat... persone nuove... come abbiamo fatto... con... cinque... sei collegati... e altra gente che risponde in chat... eh... dobbiamo trovare un pochino... un argomento... da... da portare... però sarebbe interessante... perché alla fine è stato di... è stato abbastanza divertente... eh... anzi è stata fin troppo seria... ci vuole... ci vuole... meno... cioè serietà... però ci vuole più... più scialla... questa piattaforma... ci consente di... di essere più... più sciocchi... allora... passo la visualizzazione... con... la camera... ma anche lo schermo... sperando che si veda... stasera ho voluto fare una pazzia... in realtà poi non mi sembra così diverso rispetto al solito... no dai... forse si vede... si vede di più... mi sembra che i menu siano più visibili già... nell'anteprima che vedo... quindi io sono sempre incentrato... non so come faccio... buonasera vision... se io lascio la risoluzione più grande... e aumento il carattere... praticamente è come ridurre la risoluzione... e lasciare il carattere normale... avrei dovuto forse... mettere una risoluzione più bassa... eh... però vabbè... era giusto per sperimentare un po' di... un po' di font diversi... e anche il supporto IDPI... che c'è integrato in Delphi... ovvero il fatto che... io qui sto usando i caratteri grandi... e quindi... e vabbè... adesso sto ingrandendo io... quindi... c'è il difetto del... sgrana... perché... stavo cercando il modo più semplice... per andare a Parigi... mi sa che aspetto l'invenzione del teletrasporto... o quello che si inventerà del teletrasporto... farà dei soldi... ma anche quello che farà delle batterie decenti... secondo me... riuscirà in un certo senso a... eh... poi a Parigi... ci sono stati in Interrail... nel lontano... 97... 98... forse 98... 99... sai... non mi ricordo... ho fatto Parigi e Amsterdam... eh... in un paio di settimane... è stata una bella sfacchinata... e quindi... poi... su questo tipo di... interrail... ci sono andato con i miei attuali soci di lavoro... e potrebbero... sì... nel secolo scorso... davvero... non... potrebbero raccontare... come... a Parigi... io... mi sia... inalberato... perché... diciamo che c'è una persona... adesso non so... adesso dovrei riprovarci... però... non apprezzo molto camminare... per lungo tempo... e... abbiamo fatto... diciamo... abbiamo camminato veramente... fino allo stremo delle forze... e... dovevamo andare a vedere... la Bastiglia... vai a vedere la Bastiglia... alla fine mi sono arrabbiato... perché dopo aver fatto... chilometri e chilometri di strada... quando siamo arrivati... ovviamente non c'è la Bastiglia... perché la Bastiglia l'hanno... cioè... è demolita... l'hanno tirata giù... e quindi... c'è solo una... c'è solo una lapide... un'iscrizione... e quindi io mi ricordo... a suo tempo... nella mia immaturità... mi incazzai... a morte... per fare tutta sta strada... per leggere un basso rilievo... e quindi... ero andato... io ovviamente ero sclerato... e ovviamente... gli altri due con cui ero... se la ridevano... perché... sì... per una targhetta... e quindi... diciamo che non apprezzavo il valore del... del... storico della... della cosa... e quindi... più mi incazzavo... più loro ovviamente ridevano... e siccome è stata la prima tappa del giro... io ovviamente... diciamo... ho apprezzato molto il viaggio... eh... cioè... c'è... 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 però come dire... ho dovuto... tenere la mia... posizione ironica... scazzata tutto il giorno... e quindi ho avuto addirittura... l'ardire di arrivare sotto la torre Eiffel... e dire che fondamentalmente... è solo una grande antenna... cioè... così ho qualificato... ho qualificato in questo modo la torre Eiffel... quindi basta dire quanto... ovviamente ero... ero appena un po' fuori dalle righe... ma... quella cosa lì mi aveva... mi aveva sconvolto... mi aveva... mi aveva dato da fare... dopo invece a Danson... c'era sempre più comoda... non... non per quello che pensate voi... ma... anche lì avrei degli aneddoti interessanti... da... da raccontare... tipo... eh... l'ostello in cui ci siamo trovati... anzi... non era l'ostello... ma era un albergo... perché... costa tantissimo... il vernice antiruggine... sì... ma comunque... arrivare fino in alto... è bellissimo... vedi l'ombra delle nuvole... c'è una esperienza indescrivibile... però io ero talmente incazzato... che... ho detto... vabbè... alla fine... è solo fondamentalmente un'antenna... e invece ad Amsterdam... abbiamo avuto qualche disguido... tra un ostello e lato... ci è toccato andare in albergo... e appena entrato in albergo... l'albergo ha riconosciuto subito gli italiani... perché ci ha dato... un volantino... salendo in camera... dove c'era tutta la spiegazione... tutte le istruzioni... per scegliere vari generi... di carnazzi... da vedere... sulla Pay TV... il problema è che... la Pay TV sembrava pronta all'uso... ma aveva... andava abilitata... c'era una... vabbè... brutto dirlo... c'era una fessura... una cosa interessante... per Igi... il pendolo di Foucault... si dice... che ti permette di vendere la tele che gira... ah... quello che... nella sabbia... quello... ah... non l'abbiamo visto... abbiamo visto Euro Disney... quindi si è stati più sulle... sulle ragazzate... ma... questo... diciamo... questa televisione... aveva fondamentalmente... questa... questo scatolotto... con... una fessura... che è un termine brutto da usare... perché stiamo parlando appunto di... di film di un certo tipo... e quindi mi si è chiesto... vabbè... ma lì cosa ci devo mettere... carte di credito... qualcosa del genere... caso strano... la chiave dell'albergo... era esattamente una scheda elettronica... giusta... giusta... delle dimensioni... cioè... io ho... per fare la prova... ho detto... ma no... ma non sarà questa... prendo... inserisco questa scheda... cioè... la televisione si accende istantaneamente... cioè... proprio... non so neanche se era le cd... se proprio c'è istantaneamente... ed è partito immediatamente... il filmaccio... in me che non si dica... cioè... istantaneamente... ho detto... cioè... io quando l'ho visto... ho tolto la scheda subito... e quindi... mi sono un po' allarmato... perché ho detto... basta inserirla... che è partito... non è che poi ce lo fanno pagare... sono andato... interessante come queste cose... non abbia niente a che vedere... con l'argomento della live... ma... sono bei ricordi... sono andato giù... eh... alla reception... c'è un tizio... e in inglese gli ho chiesto... excuse me... ehm... how does it work? facciandogli vedere la chiave... e lui mi ha risposto seccamente... you put... you see... you pay... e gli ho detto... ah ok... la infili... vedi... ho detto... a quel punto... siccome già l'avevo infilata... già avevamo avuto... come dire... lo scatto... la risposta... eh... abbiamo passato la notte... a guardare dei... dei filmati... eh... a ridere a crepa pelle... per la traduzione in inglese... di alcuni termini... eh... abbastanza... perché... cioè... di solito... in lingua straniera... magari guardi le scene... più rilevanti... ma non stai a guardare la trama... però la trama... in lingua straniera... eh... devo dire che avevamo un suo interesse... abbiamo... abbiamo riso come... dei dannati... e giorno dopo... non ce lo sta per far pagare... eh... però nel momento in cui gli ho dato la chiave... mi ricordo benissimo la faccia del... del tito della reception... che ci ha guardato... uno per uno in faccia... un po' come per dire... voi avete la faccia di quelli che non me la raccontano giusta... ha preso la chiave... l'ha inserita in un altro macchinino... è uscito fuori il numero di ore guardate... e ci hanno fatto il... ci hanno fatto lo scontrino... quindi niente di che... perché alla fine andava notte per notte... quindi... non è che contava le ore... infatti poi a questo punto... e da lì abbiamo cognato il famoso termine... faccia da keycard... cioè la faccia di quello che ha infilato la keycard... e si è guardato ai carnazzi... cioè... nel momento in cui lo vedi in faccia... capisci che questo è uno che... già è venuto a chiedere informazioni... e quindi figurati se non l'ha provata... se l'ha provata parte subito il pagamento... quindi... beccati... però è stato molto divertente... e devo dire... mi è piaciuta molto anche quella come città... non abbiamo fatto un giro in quartieri famosi... però ce la siamo guardata abbastanza... canali, biciclette... cioè... è stata una bella esperienza... abbiamo rischiato di non tornare in patria... però... devo dire che l'Interrail è una cosa che... secondo me tutti i giovinasti dovrebbero farsi per... nella vita... ecco... adesso... a parte le mie vicissitudini... ma alla fine è bello raccortarsele un po'... eh... torniamo alla programmazione che è meglio... meglio che non racconti troppe cose... nella mia vita passata... per non fare... delle figuracce... no... dicevo... qui ho abilitato la... IDPI... quindi... la risoluzione più alta... ma i caratteri sono più... più grandi... perché l'ambiente non solo le... supporta questo scenario... io in genere non lo uso... perché sono veramente poche... poche... poche le applicazioni che... non sgranano e supportano questa modalità... anche se... come dire... ormai... anche perché rimangono nella live... infatti no... vabbè... queste tanto sono cose che... tra parenti, amici... genitori... abbiamo raccontato una marea di volte... quindi... in grosso modo... possono anche essere tranquillamente usate contro di me... quindi non ci sono... nulla di... fondamentalmente... non penso siano cose che... che altri non abbiano fatto... in maniera... in misura maggiore o peggiore... quindi... anzi... poi le... le ricordo anche con un divertimento... bei tempi... in quel caso... dopo ho iniziato a lavorare... è finito tutto... quindi... quindi dicevo... non so... molte le applicazioni che supportano... IDPI... caratteri grandi... è un peccato... perché con certi monitor... QHD... con delle soluzioni a stratosferi... ho visto anche... un 8K... gigante... effettivamente... cioè... i caratteri piccoli... sono veramente piccoli... non si vede un tubo... e dopo... tocca mettersi gli occhiali... come quelli che ho io... che non è proprio il massimo... quindi... il fatto che l'ambiente lo supporti... è una... bella cosa... ogni tanto con qualche glitch... qualcosa da sistemare... però ho notato... io stasera ho fatto una cosa... di solito lo provo... però non vado a riavviare il sistema... stasera ho riavviato... perché ho visto che l'Object Inspector... aveva dei problemi... riavviandolo ho visto che li ha risolti... quindi in alcuni casi... alcuni glitch... può essere che siano legati al... al fatto che bisogna riavviare... perché alcuni setting... danno delle informazioni sbagliate... a parte che lo dice anche... il pannello di controllo di Windows... che può essere necessario un riavvio... però in alcuni casi... danno dei feedback sbagliati... all'applicazione... e le applicazioni si vedono... si vedono male... mentre altre si vedono proprio male... perché... fondamentalmente... sgrana... in quanto il testo... non supporta questo tipo di... modalità... mentre Delfi... non solo la supporta... ma anche le applicazioni... che andiamo a fare... le possiamo... come dire... configurare... per adeguarsi... in un certo senso... al contesto di IDPI... e possiamo anche scegliere... come progettarle... secondo me... questa è stata una soluzione... un pochino... suicida... perché vedo che... altre metri di sviluppo... ti fanno progettare... esattamente così... come il tuo sistema è... quindi... noi non possiamo progettare... in IDPI... in uno schermo che non è IDPI... o viceversa... mentre in Delfi... lo possiamo... lo possiamo fare... ne approfitto... già che ci siamo... così... lo vediamo direttamente da qui... cerchiamo... nelle impostazioni... aspetta... che non mi ricordo... come si chiama... forse... user interface... forse il form designer... IDPI... sì... non mi trovava il setting... però strano... perché non mi trova il setting... no items match... secondo me... non è indicizzato... per qualche motivo... abbiamo qui anche... l'IDPI mode... cioè possiamo scegliere... se... progettare... in modalità fissa... con DPI standard... adeguarci a quelli del monitor... oppure metterli più alti... anche se la risoluzione attuale... li tiene più bassi... cioè possiamo scegliere... come vogliamo progettare... così puoi vedere... senza cambiare il setting del sistema... mi sa che DPI tornerà in auge... dopo che la ONCD... ha detto che sia C++... non sono sicuri... l'ho letto... ho scaricato anche un PDF... che da qualche parte... dovrei aver messo... e ho visto che era citato... Delfi Pascal... tra... non ho ben capito... perché sia C++... cioè Delfi... sia C++... no... visto che comunque... come gestione... vabbè... è vero che c'è il mem... mem allo... che magari ha delle cose un po' diverse... Delfi ha dei costruttori... però sono molto vicini... però non ho ben capito... come mai... tra... c'erano alcuni linguaggi... e altri invece... no... sulla questione del memory safe... e quindi... buonasera... airghost4... benvenuto o benvenuta... a seconda del... spero di aver detto bene il nick... perché... i nick mi vengono... però ho letto... vorrei leggermi tutto il paper... perché secondo me era interessante... mi stupisce che abbiano parlato addirittura di Delfi... però... in quel caso mi fa piacere... ne parlavamo anche l'altra volta... chiamami anche Ever... è vero che si... che si tende a abbreviare... tant'è che a me chiamano... compila... infatti... stasera ho girato un filmato... in una chat... dove... qualche sera fa... ho giocato con altri... ho preso degli... degli improperi... perché giochiamo... a un gioco dove... animaletti pucciosi... devono fare schiaffi... e quindi... diciamo che c'è molto agonismo... e quindi... c'è qualcuno che sbrocca... quando... quando perde... quindi... secondo me vogliono spingere il rust... e quindi... no no... non è Power World... è Party Animals... è proprio... il gioco... non è... non è nulla di che... perché sono... come dire... animaletti... però... quando ci si prende schiaffi... diventa... Power World l'ho visto... ma a me non piacciono molto... i giochi... di quel tipo... poi io in realtà non gioco neanche tanto... però siccome qui... io porto programmazione... quindi un argomento noioso... però ci sono anche gente che... che gioca... e quindi ogni tanto li seguo... poi qualche community la seguo volentieri... perché... si passa il tempo... ecco... in background... mentre si... si studia... si programma... guardo un po' quello che fanno... ci sono dei... dei giochi effettivamente interessanti... quindi... quantomeno come realizzazione... quindi... però sì... non sono un... un gran giocatore... momento due giochi installati... Party Animals... e... Fasmophobia... quindi Fasmophobia... non ci gioco da ottobre... eh... ci ho perso la mano... e quindi... prima o poi tornerò a giocarci... ogni tanto tra l'altro... non so se l'ho rifatto... ho in... una specie di scena con... il mio logo con scritto... compila quindi gioca... e quindi qualche live di game... dovrei riprendere a farlo... però... come dire... il tempo è quello che è... quindi... no... interessante quella cosa di dire... il memory safe... magari me lo... me lo leggerò... potrebbe essere interessante parlare... ne abbiamo parlato anche l'altra volta... di memoria... e quindi... andando avanti... quindi a proposito di... vi sia il designer... quindi qui c'è scritto... low dpi... c'è parola... asterisco... tolerance... design... ppi... eh... mi sembrava che il default fosse... ah... ah ok... poi abbiamo anche... user editable... quindi noi possiamo disegnarci... le finestre... con dpi specifici... scelti da noi... quello automatico... cioè quello dello schermo... oppure low... che è fisso a 96... quindi... qui lo mette low... quindi vuol dire che con questo setting... custom vuol dire che lo mettiamo qui... ma lo possiamo anche mettere sul form... se non ricordo male... quindi tu mi dici... che se io creo un'applicazione... la vedo sempre... con i caratteri piccolini... ed è vero... effettivamente... se guardate la differenza... tra... come è scritto unit 1... e come è scritto questo form 1... sta lavorando con i dpi classici... questo può essere interessante... perché magari io voglio usare uno schermo grande... ma tutti i miei clienti hanno... uno schermo a cui caratteri 100%... invece che 125%... in questo modo riesco a progettarle... come si deve... però mi sembra che ci fosse anche qui... una... una non print scale... una volta c'è una proprietà... che però è stata deprecata... forse mi confondo... con quella dell'Object Inspector... questa parte degli idpi... dovrei... un po' esplorarla... per capire... se invece metto... automatic screen... non mi aspetto che la... la cambi subito... probabilmente c'è da giù... c'è da chiudere... poi riaprire... però dovrebbe riaprirla... sei molto bravo nella programmazione... leggendo le informazioni... ah ma lì mi presento bene... perché così... non scherzo... diciamo che ci provo... lo faccio da un po' e quindi da qualche anno... quindi qualche cosina... penso di averla imparata... però insomma... c'è sempre da imparare... infatti... sto facendo un Twitch chat bot... con Node.js... Node.js... mi piace... ha un po' il difetto... che quando crei un'applicazione... se devi scaricare un po' di package... diventa veramente voluminosa... però... ci sta... soprattutto le... anche quelli... Node.js più nuovi... quelle implementazioni alternative... tipo... come si chiama... Dyno... l'ho un po' esplorato... l'ho un po' utilizzato... diciamo che mi piace un po' un po' tutto... poi... qui su questo canale... io porto principalmente... dei... sia perché un po' più interattivo... sia perché meno... è meno utilizzato... e quindi... è meno portato... rispetto ad altri linguaggi... come JavaScript... .NET... Java... eccetera... e... poi... di solito... le live... le ricarico anche sul mio canale YouTube... dove ci abbiamo fatto... veramente di tutto... con Delphi... perché abbiamo usato... Bluetooth... fatto delle web API... fatto delle applicazioni... dei giochini... dei giochi per le live... cose per fare gli overlay... ci abbiamo veramente programmato... qualsiasi cosa... e questo... fa capire un po' anche... la versatilità del tool... oltre al fatto che... è abbastanza semplice da usare... quindi... mettendo l'IDPI... chiuso e riaperto... perché non è automatico... adesso... si vede che sono... sono in sync... e quindi... sono sincronizzati... poi lo lascerei così... in generale... secondo me... automatico... può... può andare bene... se io c'è una maglietta in tinta... Houston... I have so many problems... sembra giusto per... proprio per l'argomento... e quindi... che tema andiamo a trattare... sempre legato al design delle finestre... però è un tema particolare... di Delphi... ovvero... è una potenzialità... che in realtà... poi è stata introdotta... in tanti linguaggi... perché c'è anche in .NET... con... Windows Form... eh... in... per Java... non so se c'è qualcosa di simile... in quanto... eh... diciamo che... l'approccio RAD... anche in .NET... lo troviamo... in... Windows Form... che è una libreria un pochino... eh... non dico deprecata... ma... tra Blazor... WPF... altre... diciamo che... ce ne sono di... di più moderne... quindi sono per fare applicazioni tradizionali... mentre in Delphi... questa è ancora una realtà... ed è ancora comunque gettonata... quindi le API... la maggior parte sono native... ehm... in quel caso è stato introdotto... eh... in Delphi... invece esiste... veramente da tanto... eh... ed è un concetto che è stato esteso... non solo ai form... ma anche... ai... ai frame... ehm... che cosa sono i form... cosa sono i frame... i form li abbiamo già visti... ovvero quando creiamo un'applicazione... quello che ci viene... predisposto... al netto di... eh... come dire... un nuovo progetto... con i suoi file... mi sono... rigato di rosso la testa... eh... abbiamo appunto... stiamo creando un eseguibile... per Windows... abbiamo... un file pass... la piattaforma che indirizziamo è Windows 32 bit... in configurazione di debug... quindi con alcuni controlli in più per fare debugging... e abbiamo questo file che è la nostra finestra principale... divisa in due file... fondamentalmente... due... due... si vede... ehm... uno è il codice... e l'altro diciamo sono le proprietà... le impostazioni... quindi la barra del titolo... i componenti che mettiamo... la posizione... la grandezza... eh... le caratteristiche che diamo... a quello che stiamo progettando visualmente... questo l'abbiamo visto già... l'altra volta... ehm... però... non sono l'unico elemento visuale... che possiamo... inserire in un'applicazione... quindi se questo... lo vado... a salvare... qui c'ho la cartella... gatto... allora... qui facciamo una cartella... visual form inheritance... chiamo... demo... ehm... forms... main... ehm... l'applicazione la chiamo... demo... voilà... così... questo lo chiamo... demo... poi vado a... cambiare name... main form... quindi uso i classici... i tastini... il tab... ehm... per la ricerca incrementale... quindi abbiamo visto l'altra volta... tab... c... a... p... mi sposto su caption... e scrivo... demo... app... faccio tab... na... m... mi sposto su name... e vado a cambiare il nome... poi scrivo tab... pause... e vado su position... e quindi riesco a progettare... velocemente... la mia applicazione... qui lo metto in... ehm... desktop center... o screen center... screen center... perché desktop center... me lo metteva a metà... a cavallo tra i due schermi... ehm... quindi questa... mh... un pulsante... lo vediamo con una bella scritta... un po' più... un po' più grossa del solito... un po' più marcata... e quindi... sta lavorando con i caratteri... ehm... più... più ampi... l'altra volta avevamo fatto una dialog... quindi... qui... di nuovo... abbiamo un... un file pass... corso urgente... che è questa roba qui... ehm... e abbiamo... un file collegato... che è il dfm... che viene visto così... perché è correlato al primo... ehm... che noi vediamo con... view as text... dove c'è la definizione del form... cioè dove c'è scritto... fondamentalmente... che noi abbiamo... un form... main form... left top... sono a zero... perché in realtà... poi si posiziona... automaticamente... nello screen center... e quindi ha messo un... un default per left top... che non sono significative... i margini... ehm... la caption... cioè il titolo... e poi abbiamo le caratteristiche del pulsante... che ho messo all'interno... applicazione molto... poi ovviamente possiamo ripassare a vedere... il form... molto basilare... faccio run... run senza debug... lui compila e lancia l'applicazione... qui c'è il mio bel pulsantone... che io posso cliccare... posso fare le mie varie cose... ehm... il form non è l'unico elemento... che noi possiamo progettare... e inserire all'interno di questa... superficie... l'altra volta avevamo creato due forme... poi l'avevamo visualizzata... ehm... side by side... diciamo di fianco all'altra... poi l'avevamo visualizzata... in maniera modale... ovvero tipo dialog... cioè... quando io non la... finché non la chiudo... non riesco ad accedere... alla finestra che sta sotto... ehm... questa sera... vediamo anche questo elemento ulteriore... che è il frame... ehm... come lo inserisco nel progetto... faccio file new... o lo scelgo... diciamo... dal mio menu... perché se me lo metto comodo... posso andare a sceglierlo direttamente dal menu... ehm... file è il nome della libreria... ehm... per lo sviluppo su Windows... lo vediamo perché c'è il login Windows... mentre Unity, Thread... altri tipi di applicazioni multi-device... come vediamo dei simbolini qui... sono appunto multi-device... multi-sistema... quindi Windows, Mac... mobile... Android, iOS... eppure Linux... perché c'è anche... Linuxino qui... oh poverino... gli ho tranciato la testa al pinguino... mentre... quindi... questi usano... l'RTL... la libreria di base... Runtime... dove c'è gestione della memoria... dei file... eccetera... che è cross-platform... poi c'è FireMonkey... che è una libreria grafica... cross-platform... e c'è la VCL... che è una libreria... non grafica... ma fondamentalmente... è un wrapperone... dell'API di Windows... che lavora solo... appunto... su Windows... noi possiamo aggiungere... form... tra le altre cose... o il frame... che cos'è il frame... quindi lo vado a scegliere... faccio ok... se guardo... quello che vedo... assomiglia molto a un form... perché è una superficie... da editare... questo nuovo file... questo è il mio main form... e questo nuovo file... a cui devo ancora dare un nome... possibilmente più significativo... di Unit 1... perché Unit 1... è abbastanza atruce... che cos'è questo frame... è una parte di... interfaccia... ovvero... i frame li posso destinare... per contenere qualcosa... che può essere replicato... in vari punti... della mia interfaccia... ok... e... possono contenere... quindi... dei controlli... tanto come un form... però non vivono di vita propria... ma vivono all'interno... di un altro contenitore... che potrebbe essere... sia un altro frame... sia... una form... che effettivamente... lo... gli consente di... di visualizzarlo... quindi ad esempio... qui... cosa potrei andare a mettere... non so... voglio... fare una sorta di intestazione... non so... per la mia finestra... potrei... iniziare a progettare... questo frame... ok... lo chiamo... demo frames... lo chiamo... title... pass... ok... questo si chiama pass... questo qui... lo espando un pochino... così... magari me lo salvo anche... il desktop... così me lo tengo... ok... grazie... e... vado a cambiare il nome... name... title... frame... ok... quindi l'ho chiamato... title frame... le proprietà che vedo... sono quelle di un... controllo abbastanza... un controllo abbastanza... tipico... quindi qui non ci sono... le proprietà della finestra... ma ci sono le proprietà tipiche... di un controllo... ovvero la posizione... in realtà la posizione... la vado a indicare... quando lo utilizzo... però ad esempio... il fatto di allinearsi... con o meno dei margini... double buffering... avere delle scroll bar... avere una fonte di default... per le scritte... quindi ha un po' le caratteristiche... che ha una finestra... ma non è una finestra... ma è un pezzettino... di un'interfaccia... fondamentalmente... nel codice... sembra molto simile... una finestra... però ecco... mentre... se noi guardiamo... la mainform... e vediamo le differenze... qui vediamo che... la mainform... è eredita da... tform... quindi la nostra... classe... tmainform... è un costrutto... che vedremo... quando faremo... programmazione oggetti... che rappresenta... il comportamento... di una tipica... mainform... in questo caso... la nostra mainform... cioè... è una... è una form vuota... tform... con all'interno un pulsante... una di più... una di meno... e questo si porta dentro... le risorse... che è la parte... il file dfm... con cui noi definiamo... tutta la finestra... il frame è molto simile... cioè... ha la stessa dichiarazione... non mi va a creare... questa var... che abbiamo visto... l'altra volta... non è proprio... una scelta bellissima... e in realtà... potremmo anche... addirittura... spostarla... nel programma principale... cosa che io di solito... faccio... view source... quindi questo è il mio... programma principale... e così... come dire... non ci dà... particolare fastidio... quindi qui abbiamo messo... il pulsante... qui c'è il pulsante... questo è ancora vuoto... però vedete che sono... molto simili... una è data da tform... l'altra è data da tframe... quindi questo tframe cos'è? è una finestra... senza barra del titolo... è una cosa che... non vive di vita propria... ma... viene visualizzata... ospitandola su un'altra finestra... oppure su un'altra frame... quindi io qui... l'ho un po' ridimensionato... potrei andarci ad aggiungere... boh... facciamo un pannello... potrei metterci un pannello... andare in configurazione... e dirgli di non far vedere... la caption... niente titolo... di mettere il fondale... rimuovere il bordo... oppure fare un bordo... bevel... che dovrebbe essere... un pochino più... niente bordo... ma una certa... facciamolo così... forse l'ho fatto un po' grandicello... aspetta... che... è lowered... none... volevo trovare uno stile... un po' più... un po' troppo grande... questo bordo... facciamo che... rimuovo... e poi lo metto... soft... flat... lo metto così... intanto poi... è solo un demo... alla fine... quindi non... non è importante... eh... vado... eh... quick edit... gli dico di... allinearsi... per occupare tutto lo spazio disponibile... il nome lo chiamo... title panel... la caption... non c'è... eh... perché metto un pannello... perché gli posso dare un colore... ad esempio... cl... white... metterlo bianco... potrei aggiungere qui dentro... un image... un'immagine... ok... anche questa potrei dirgli... andiamo in quick edit... e gli dico... non so... logo image... oppure... title image... l'allineo a sinistra... ok... magari la metto... eh... stile quadrato... quindi... questo lo ridimensiono un po'... oppure potrei dargli un altro... un auto size... 114... 114... questo è... 111 per 110... facciamo che lo facciamo... un quadrato perfetto... così siamo a posto... eh... posso... quick edit picture... quindi senza andare a navigare... troppo nelle proprietà... questi quick edit sono comode... perché le cose più comuni... le troviamo già direttamente... nell'editor... vado a fare un load... mi vado a prendere... boh... ho delle icone da qualche parte... vediamo... immagini pubbliche... icone... ho cartelle windows... png... vabbè... mettiamola lì... mi sa che è corrotta... questa immagine... pure io qui la vedo... quindi dovrebbe andare bene... è vero che potrei metterci... qualunque tipo di... di icona... quindi... windows icon... ma sì dai... buttiamoci questa... la posso anche strecciare... è che l'icona si streccia poco... proportional... stretch... l'icona è un bitmap... un po' limitatino... quindi... ehm... dai... prendiamo... figurati se non ho delle cose... un po' più interessanti... da buttarci dentro... library... sono tutte icone... ma le icone sono un po'... sì... è vero che si chiama icone... questo... questa cartella... e qui non ho capito... perché me lo ha rifiutato... perché mi dice... invalidi header... strano però... perché di solito... di solito le accetta... logo di compilio... eh... buona idea... questa è una buona... una buonissima idea... quindi... vuoi vedere se ce l'ho... asset... logo... eh... ma si... non è proprio il massimo... un po' piccolino... da vedere... ma... stretch... proportional... vabbè... qualcosa si vede... dai ci sta... tanto è... tanto dobbiamo andare a sostituire... quindi... e poi ci mettiamo... una... una label... label label... rebel label... eh... la chiamo... quindi vado sul name... la chiamo title label... eh... caption... quindi lascio quella lì... tanto poi l'andrò a cambiare... eh... che vado a fare... vado a dargli un font... magari un po' più grandicello... tipo tipo tipo... un size di... 24... magari potrei scegliere... anche un colore... un pochino più... un po' più... fricchettone... eh... menu highlight... ci sono quelli... web... still blue... si vede poco... eh... royal blue... midnight blue... medium blue... blu da budi da budae... mangiamo Twitch... e facciamolo... un po' a violetto... via dai... tanto poi non è... non è... non è... non è rilevante... tanto c'è... mia madre che chiede... se vado a mangiare domani sera... tutte le volte che sono in live... eh... appena inizio... partono i messaggi... che vogliono una risposta istantanea... eh... incredibile... allora... quick edit... align... lo allineiamo allo spazio che c'è disponibile... in... vertical... eh... dov'è... layout... center... esatto... mettilo al centro... ci aggiungiamo magari qualche margine... adesso poi questa è tutta roba per capire un attimo anche... quick edit... lo faccio da qui che è più comodo... allinea con i margini... quattro... quattro margini... ecco... così sta un pochino... un pochino più distanziata... vabbè... eh... questo poi... non è importante... quello che è importante è che questa cosa che noi abbiamo messo... al suo momento non ha... non ha... codice... questo è boilerplate... cioè roba che viene inserita ma poi... ci serve... non ci serve... eh... ci sta che stia lì però insomma... non è così importante... c'è qualche problema... con quell'iconcina che segue... questa qui... che secondo me... non... non tiene conto del... no... mx c'è niente... non sta tenendo conto degli idpi... quindi c'è qualche problema... eh... detto questo... che poi era un png... questa immagine... quindi questa è la caricata... si vede che l'altra aveva qualcosa che non... non digeriva uno standard diverso... quindi... come possiamo utilizzare un frame? noi abbiamo diversi modi... eh... un modo potrebbe essere quello di dire... io devo fare una finestra... di dialogo... voglio aggiungere una barra del titolo... quindi... che posso scegliere... qui nella... nella mia palette... quindi qui ho la tavolozza... c'è anche... frames... quindi ho il menu... menu di pop-up... label... eh... tmem... eccetera... quindi... tu dici che questo... mmx... source indexer... ci avrà nelle pro... nelle... mmx... per chi non lo conosce... è... eh... display... a parte che mi dà fastidio... non c'ho bisogno di quell'oggetto lì... è una sorta di... mh... di plugin... l'unico momento su cui si possa fare affidamento... per fare un refactoring... fatto bene... con... ah... c'è ID integration... eh... qui però la spengo proprio... tut curt... come si suol dire... ehm... sicuramente c'è da qualche parte... ehm... unfolded cursor... un show tip... prepa... set packages... ehm... with... as views... menu... insert in menu... ehm... display... sono l'acqua in mezzo eh... combine... more property... magari non l'hanno messo configurabile... beh... aspetta che guardo... grande... in... si viene in aiuto... ehm... si perché alcune cose non le uso... quindi... highlight... color... ehm... no portal matches found... sarà... del FIA editor... che forse è la cosa... display... cursor... position indicator... sarà questo qui... ah... determina line 8... start up... si... l'ha ammazzato... c'hai ragione... non c'è più... ma... boh... che serve... che me ne faccio... nel senso che... horizontal position... left line... ah... gli devi dare... volendo la correzione... del line 8... perché... è più... vabbè... però... mi sembra abbastanza... rilevante... questa cosa... non... non... il search enhancement... combo close... ha un sacco di opzioni questo editor... quindi è una roba... comunque perfetto... l'abbiamo rimosso... mi dà anche fastidio... quindi... tra i componenti... abbiamo anche... frame... come lo usiamo? io... scelgo di inserire... quindi... io prima ho scelto un T button... ad esempio un pulsante... ce l'ho qui... clicco sul T button... inserisco il pulsante... pam pam... e va dentro il pulsante... clicco su frames... mi appare invece... una finestra... che mi fa scegliere... tra i frame... che ho nel mio progetto... quindi nel mio progetto... attualmente... ce n'è uno solo... infatti la tolgo sempre... si possono esportare... e importare le impostazioni? quasi sicuramente si... e dopo ci guardo... ehm... c'è title frame... che è il frame... che io ho creato... perché me lo fa scegliere? perché se io lo scelgo... lo posiziono... all'interno della finestra... come... fosse un componente... ehm... quindi... quando lo scelgo... e faccio... ok... eccolo qua... ci ha messo un po' perché secondo me... quell'immagine lì... è veramente pesante... quindi... ecco che è comparso... il nostro... ehm... title frame... il nostro... titolo... però... ecco... perché l'utilità dei frame... avere un pezzo di interfaccia? con ogni finestra... io... diciamo... ho creato questo componente... mi faccio fare come ruolo... icona... e... titolo... vuol dire che ovunque... in ogni finestra... io lo posso posizionare... ma... io posso anche... scegliere... frames... selezionarlo nuovamente... faccio ok... e ovviamente... me ne ritroverò... ehm... due... adesso li ha posizionati uno sopra l'altro... anzi... forse li ha messi uno dentro... no... non li ha messi uno dentro l'altro... li allineo così li vediamo... a parte che l'allineamento potrei anche deciderlo... di farlo a livello di frame... ehm... ovvero... riapro questo... e gli dico che normalmente... tutta questa videata... questa title frame... dovrebbe allinearsi alla parte superiore del form... ok... AL top... qui... ho scelto... align al top... che vuol dire che si aggancia... si docca... come se non so... con i termini usate... alla parte superiore... della finestra... se torno qui... vedo già la modifica... siccome prima erano affiancati... erano uno sopra l'altro... siccome gli ho detto di allinearsi... vuol dire che... il primo dei due... ehm... che è questo qui... che è quello in alto... si allinea... in alto... e il secondo allineandosi in alto... si aggancia al precedente... e quindi stanno... ehm... attaccati... per cui non... io non posso spostare... né l'immagine... né la label... perché sono ancorati... e neanche... cioè... questo lo sposto... ma si riattacca lì... perché... fondamentalmente... viene visualizzato lì... ehm... nel codice... cosa vedo? vedo che... nella mia finestra... ci sono... due pulsanti... e due... ehm... title frame... cioè due istanze... c'è un title frame uno... e un due... di questo title frame... quindi... title frame... è una classe... fondamentalmente... quindi definisce il comportamento... di un generico... ehm... controllo... fatto in questo modo... ovvero... questa barra del titolo... quando io... lo vado a posizionare... ehm... ne sto creando un'istanza... cioè... sto creando... è come se passassi... dalla progettazione... ehm... quindi... qui... ehm... io sto dicendo... che il mio title frame... è una finestra vuota... che include... un pannello... un'immagine... e una label... e al momento non ha... non ha codice... non ha un comportamento... ma... se avesse un suo comportamento... ad esempio... avesse delle funzionalità... per... ehm... visualizzare... nascondere la label... per dire... le andrei ad aggiungere qui... e quindi... questo mi definisce... quella che è... ehm... ehm... l'asse... cioè il prototipo... la spiegazione... di come si comporta un generico... frame... ogni frame... un pannello... una label... eccetera... quando io la posiziono... sto creando un'istanza... cioè... sto dicendo... ok... dato quel modello... creiamone uno... e creiamone un altro... quindi ne posso creare... quanti ne voglio... li posso creare... anche a runtime... cioè... il vantaggio dei frame... è che se io... prendo qui la mia finestra... ok... e vado... a intercettare l'evento... ad esempio... un create... io qui... potrei dirgli... ehm... var... eh... frame... oppure... title frame... faccio una... variabile locale... gli dico... title frame... create... ne sto creando uno nuovo... delego... alla finestra... con questo self... perché noi stiamo... intercettando un evento... nella finestra... che viene agganciato... e diventa una funzione... della nostra finestra... la nostra finestra... ha questa logica... in fase di creazione... che è parte della logica... della finestra... principale stessa... e... entra in funzione... quando... nel programma principale... noi creiamo... questa finestra principale... di solito ne creiamo una sola... ma... è il caso della finestra principale... di altre finestre... ne possiamo creare... 10... 100... quindi qui vado a creare... una nuova finestra... per visualizzarla... devo... chiaramente... assegnargli... eh... un parent... quindi devo scrivere... che il suo... contenitore... a livello visuale... è sempre... self... ovvero la finestra... poi per distinguerlo... eh... scriverò... ad esempio... che nel frame... abbiamo la title label... cioè l'etichetta... scrivo caption... cioè il testo... che voglio vederci sopra... gli scrivo... eh... title... created... title... at runtime... wow... mi invento sta roba... ok... quindi... quando mando in run... dovremmo vederne... non due... ma tre... eccolo qua... questi sono i due... che ho posizionato da solo... questo è quello che ho... valorizzato... ehm... a runtime... a cui ho dato il titolo diverso... quindi... questi sono ancorati in alto... vuol dire che se ridimensiono la finestra... verso l'alto... o... a destra... eh... queste... queste... queste barre... le vediamo perché sono colorate di bianco... seguono la dimensione della finestra... quindi io potrei massimizzarla... eh... ridurla... il pulsante... no... vedete che se premo in giù... eh... quello non segue... ma finisce... scompare... perché va troppo sotto... eh... queste rimangono... se poi vogliamo testare... come al solito... se abbiamo dei memory leak... eh... abilitiamo la solita variabile globale... che è questa... è da imparare a memoria... ma... la si trova un po' dappertutto... report memory leak... son shutdown... lanciamo l'applicazione... vediamo quello che esce... la chiudiamo... non ci sono segnalazioni... in quanto nel form... ne abbiamo... abbiamo due frame... che vengono creati... in automatico... quindi se andiamo anche a vedere il dfm... alla presentazione testuale... troviamo la nostra finestra principale... ma dentro ci vediamo anche... title frame 1... title frame 2... non hanno... hanno queste scritte in line... che vuol dire appunto... che è qualcosa che sta nel progetto... va creata in loco... e... poi abbiamo anche questa parte inherited... cioè ereditato... perché? perché quando io creo questi frame... io creo tutto quel... quell'interfaccia utente... che è definita nel frame... ma i componenti che sono all'interno... io potrei prenderli... e fare una customizzazione... ora ci arriviamo... però ecco... qui ci sono tutte le proprietà degli altri due frame... manca il terzo... che però... viene creato... tramite codice... e... quindi... quei due frame... vengono creati nel contesto del form... il form è responsabile della loro distruzione... in questo caso lo creo a runtime... ma associandolo... qui nella creazione... se gli dico che... l'owner... è... self... cioè la finestra... vuol dire che la finestra... delego alla finestra... il compito di distruggere questo frame... e la label... l'immagine che sono nel frame... l'owner... di questi... è il frame stesso... quindi... quando io chiudo l'applicazione... chiudo la finestra... e viene distrutta... la finestra distrugge... tutte e tre le istanze dei frame... i frame distruggono tutti i componenti... che stanno all'interno... ovvero l'immagine... la label del pannello... qual è il vantaggio di questa cosa? beh... uno di quelli evidenti... è che... annetto che io lo creo a runtime... lo posiziono qui... cambio idea... ad esempio... sulla label... non la voglio più allineata a sinistra... ma la voglio allineata a destra... io vado qui nel mio frame... lo visualizzo... clicco sulla label... gli dico che... alignment deve andare a... right justify... ok... e la vedo... e la vedo sulla destra... salvo... ci piega veramente un sacco... devo trovare un'immagine più piccolina... anche perché vedo che le performance diventano... degradano abbastanza... e questa immagine in realtà... la vediamo piccola... ma sarebbe molto grande... quindi... è un 1024x1024... eh... ci sono delle clipar più piccoline... questa è ancora più grossa... eh... mannaggia... mannaggia... eh... fammi vedere... se non c'è qualcosa di... di più piccolo... questo avatar... ci sono dei... dei loghi... a questi sono più piccoli... dai... 502x512C... ce lo possiamo parametere... c'è anche un logo di Delphi... è anche più bellino da vedere... va... no... perché prima ho visto che... quando cambiavo l'allineamento... ci metteva... eh... ok... adesso... siamo appena un po' più spediti... perfetto... ciao Andrew1... non avevo visto il messaggio... finalmente ti trovo online... si... adesso sono... un po' sul... fisso sul martedì... finché... finché riesco... ma... quindi allineiamo a destra... a questo punto... andiamo nel form... e le troviamo tutte... eh... allineate a destra... tranne questa... che secondo me... c'è un problema di... che non sta nella finestra... ok... l'avevo un po'... un po' ridotta... gli ho cambiato un po' i connotati... però... d'altro... Marcone... mi chiamano così... in palestra... per cui... quando leggo... Marcone... mi viene in mente subito... la palestra... mi viene... dai Marcone... fai quei burpees... i maledetti burpees... c'è una cosa che detesto... e quindi... eh... vediamo subito... la... la modifica... quindi... se cambiamo idea sul colore... la vogliamo fare... con un blu più tenue... perché questo non ci piace... e andiamo nel nostro font... andiamo qui... mamma mia... come sono brutti questi... faccio prima andare qui... che magari abbiamo delle scelte... un po' più carine... ma... perdono... enfatizzo quando ho detto il chat... no... ma va benissimo... quindi... infatti... il mio amoroso dice... ma... ti fai chiamare in palestra Marcone... ma... non è che mi... non mi prendono in... cioè... in giro... ormai... quando... il nick... effettivamente... io... sono grossino... quindi... quantomeno lo ero... questo vi è che è un po' più chiaro... o è quello di prima... forse esattamente quello di prima... eh... no... prima era rosato... mettiamolo... mettiamolo... marun... mettiamolo rosso... o qualcosa del genere... eh... se vado qui... lo trovo sempre aggiornato... insomma... un po' il concetto è questo qui... eh... quindi ho fatto una sorta di template... diciamo che qui non siamo sul copy and call... eh... cioè io sto... istanziando copie di questo... frame... ehm... e quindi vuol dire che... per quello che... se cambio idea... cambio idea anche... agli utilizzi... cioè... quando progetto il mio frame... se gli vado a cambiare dei connotati... li vedo cambiati... anche altrove... perché... giustamente... mettiamo che io voglia... ehm... aggiungere qui... questo title... lo metto un po' più ristretto... eh... lo allineo ad esempio... in alto... oddio... si è mangiato... scusate... facciamolo così... dovrei mettere un altro pannello... eh... per metterci il sottotitolo... però dovrei averne due... ma scusa... in alto... quindi prioritario... rispetto a questo... ehm... vabbè... lo lascio... lo lascio così... che tanto non è un problema... ogni modifica che faccio qui... si riflette su tutte le istanze... perché qui stiamo solo dicendo... che qui va creato questo... quindi... visualmente... mi sta facendo vedere... che... ogni modifica che apporto... allineamento... lo voglio mettere al centro... eccetera... viene ovviamente... riflesso in tutte le istanze... però... possiamo fare dei cambiamenti... cioè... quello che posso fare... è andare su... ad esempio... quest'istanza... quest'immagine... e dire... metti... mettilo a destra... lo allinei a destra... questo si allinea al client... che vuol dire che... eh... si allinea al centro... ah... ah... non mi frega... perché non riesco a zoomare... però si vede... che c'è quest'area centrale... vuol dire che... eh... annetto dei bordi... di ciò che è allineato al bordo... tu allineati... occupiti dello spazio che rimane... quindi... questo che è allineato a destra... è sempre la priorità... e quello che è allineato al client... occupa lo spazio che rimane... io qui... eh... l'ho allineato... a destra... quindi... prendo il focus... sul... cioè... fa così... quando il programma... a volte lo fa... quando io... uso lo zoom... che mi cattura... mi cattura il contesto... non mi fa più... aspetta... che vedo se riesco... no... ci è rimasto proprio in mezzo... però è strano... aspetta eh... produco... ripristino... adesso la... il programma di zoom... mi... mi... mi interferisce con... l'ambiente... non so come mai... quindi qui ho cambiato scelta... però... non ho perso... almeno in toto... ehm... il vantaggio di avere... quel frame a fattore comune... cioè non è che questo adesso... ho variato il template... non è più suscettibile... ehm... se vado qui... prendo la label... e... la metto di colore... cambiamo ancora il colore... lo mettiamo di un verdino... green... ok... diventa verde... diventata verde... ehm... non so... non so... non so di cosa... non ho idea di cosa sia in specifico quello che qui ti riferisce... ehm... qui il testo è diventato verde... però... l'immagine qui è rimasta... al naturale... qui è rimasta sulla destra... perché... ehm... se noi andiamo a vedere... il views text... quindi il dfm... scopriamo... che quel frame... che è quello là in alto... ehm... quindi il nostro title frame 1... che cos'è? è il nostro title frame... questo... senza ombra di dubbio... ok... nulla di più... nulla di meno... ehm... ma... rispetto all'originale... ha delle modifiche... ad esempio... qui sta dicendo che... ehm... dentro il title frame 1... c'è anche il pannello title panel... c'è anche... la title image... però... ehm... rispetto a quella ereditata... inherited vuol dire che non va ricreata... ma è qualcosa che io prendo... ah no... ho letto il pannello di controllo... che è una stessicona... ok... ehm... annetto del fatto che... questa sia presente anche nel frame... questo inherited vuol dire... attenzione che non è qualcosa di nuovo... ma è qualcosa che proviene... dal frame... quindi... dobbiamo creare solo una volta... dobbiamo prendere... queste proprietà non sono di una nuova immagine... ma sono... ah... ho capito... ho capito... ho capito... qual è il famoso good mode... ok... ci sono... ehm... ma è l'immagine ereditata... qui sta dicendo... noi ereditiamo title image... ma a differenza della versione base... che ha il colore verde... blu... eccetera eccetera... qui impostiamo... align... a... right... cioè allineamento... sulla destra... c'è una cartella... rinomina... ci sono tutti i settings... sì sì... mi ricordavo la... la cosa... mi ricordavo questa cosa... quindi mi è venuta in mente... ehm... l'avevo fatta tanto tempo fa... mi è venuta in mente... di cosa... di cosa si trattava... cos'era il good mode... quindi... qui praticamente... ci stiamo solo dicendo che... nel title frame... che è l'istanza di quella... la barra del titolo che noi creiamo... il pannello con dentro l'immagine... la label... hanno questi ineriti... perché vuol dire... rispetto... a quella che proviene del frame... che noi reeditiamo... ehm... noi teniamo tutto... quello che proviene di là... tipo il testo verde... ma ad esempio... qui in title image... align... è... right... cioè... l'allineamento è a destra... se andiamo sul secondo... dove non ho fatto questa modifica... title image... vedete che ha solo... ehm... la posizione... indicata in maniera... esplicita... fondamentalmente... perché... perché... nel riposizionarlo... la label assume... ehm... una coordinata diversa... e quindi la deve memorizzare... però ad esempio... qui non abbiamo l'allineamento... perché l'allineamento è il default... che cosa vuol dire... default è a sinistra... ma il nostro default... qui non è... quello che la label imposta inizialmente... ma è quello che la label ha... nel nostro frame... quindi il nostro frame... quando lo posizioniamo... noi... prendiamo tutte le proprietà... le proprietà... e... le rispecchiamo... esattamente... nelle distanze... che mettiamo nella finestra... tutte le proprietà... che assumono un valore... diverso dal default... che adesso non è più... quello... di una label... posizionata... ex novo... su una finestra... ehm... diciamo... in separata sede... il default diventa... le caratteristiche... quella label... parliamo della label... ma parliamo del pannello... dell'immagine... ha... all'interno del frame... infatti... stiamo posizionando il frame... tutto viene configurato... secondo quello che è definito... nel frame... questo inerted... vuol dire... che queste cose... sono una variazione... di quello che proviene... dall'altra parte... quindi... qui... noi abbiamo preso... title image... esattamente com'è... però... annetto delle coordinate... gli abbiamo detto... che align... è right... se noi... andiamo a impostare... ehm... andiamo a rivisualizzare... la finestra... ok... se io sposto qui... una label... metto una label... sulla mia... form... qui... e vado a vedere... il valore di default... dell'alignment... vedo che è... left justify... perché è il default... perché non è in grassetto... ehm... quando è il default... vuol dire che... nel momento in cui io salvo... e lui streamma le proprietà... di questi componenti... dentro quel file... perché poi dovrà ricaricarli... partendo... ehm... io vado nel... text... e vedo che la line... non è riportato... tra le proprietà... della label... sicuro se ti rompo... ci sono webinature... in arrivo... al momento... no... però ne volevo proporre... uno... su... delfi... python... che abbiamo... ehm... in community bay... adesso gli manderò... questa mail... poteva essere interessante... siccome al Python... non me lo accettano... io... lo porto altrove... hm... come si dice... vabbè... scherzi a parte... però... al momento... non c'è nulla... questo mese... penso che non... non ne farò... di... di particolare... anche perché... sono sempre sui argomenti... molto disparati... ormai... ho esaurito le cartucce... no... a parte gli scherzi... devo... dovrei prepararmi... c'è anche un po' il lavoro... che mi... ehm... però... rimangono... dovrei lavorare un po' anche... sul mio sito... che è rimasto indietro... non ho neanche pubblicato... le schede... dei webinar che ho fatto... sono un po'... ah... interessante... perché... l'ho fatto dal vivo... in un gruppo locale... che... dove si parla di Python... però è stata una serata... un po' sfortunata... perché c'era poca gente... era molto freddo... era fuori dal centro... è stata logisticamente... un pochino... c'erano già degli eventi... e quindi... io ho dovuto... fare... praticamente... la presentazione quasi sotto zero... però non potendo... presentare una cosa con la giacca... dovevo... dovevo stare senza giacca... ma ero in maniche corte... e penso che... ho la tosse ancora da allora... penso... l'anno scorso è stato... quindi... però... però è stata una presentazione... due ore passa... perché... era abbastanza curioso... e secondo me... è un connubio interessante... lo devo esplorare un po' meglio... però... lo preparerò... e sicuramente... se ne parlerà... aiuto... io... mi hanno detto... forse sei mutato... non ti sentiamo... io... con un filo di voce... ho detto... ma... non ci fa più la voce... quindi... vabbè... fa molto ridere... ma... quindi... torniamo qui... alla... nostra label... quindi... perché questo... è il default... queste label... che sono centrate... mi fa vedere... che l'alignment... è TA Center... mi fa vedere... che non è il default... anche se... in realtà... magari... l'ho cambiato... no... qui... è TA Center... lo dovrebbe... lo dovrebbe essere... in teoria... eh... perché... eh... io l'ho cambiato... all'interno del frame... cioè... in questo frame... venendo posizionato... se metto... lo stesso allineamento... che ha nel frame... eh... la proprietà non viene salvata... perché... quella che carica di default... con l'impostazione... poi... del frame... allineamento al centro... diventa nuovo... il nuovo default... la cosa carina... quindi... posizione componente... lo vedo come nel frame... quando salvo... ogni cosa... che è leggermente diversa... viene salvata... come qualcosa... che... viene impostato... eh... in seguito... alle impostazioni... che derivano dal frame... questo vuol dire che... una volta che... posiziono questo frame qui... io vedo la mia interfaccia... ne vedo due... però... se vado sull'immagine... e gli dico... che si deve allineare a destra... quella si allinea a destra... e... non è che perdo... il legame col frame... perché se cambio il colore... avete visto che la modifica si riflette... ma... se vado sul title frame... vedo che... uno è rimasto intoccato... e ha solo delle coordinate nuove... per il controllo dell'immagine... eh... l'altro... invece... ehm... ha anche la proprietà align... perché... rispetto al centro... quindi... parte da sinistra... il frame dice che va al centro... io... siccome... vario rispetto al centro... questa proprietà viene salvata... in modo che lui quando carica... cosa fa? caricherà le proprietà... del mio frame... e quindi... ehm... metterà l'image... con... left top with margin... con la sua figura... ecco qui ci sono un po' di dati binari... e... la proprietà... proportional... stretch... qui non mette neanche l'allineamento... si... no... diciamo che lo allinei... align left... dovrebbe esserci... align left... quindi... lo allinei a sinistra... quindi... questo align left... è il motivo per cui... l'immagine la vediamo ancorata qui... se ridimensioniamo... mi segue... quindi... quando creo il frame... questa parte a sinistra... però... diventa right... nel momento in cui la customizzo... quindi... il vantaggio qual è? che io... parto da... il mio frame... mantengo un legame... ma posso variare il default... cioè... posso prendere questa etichetta... e dire... ok... va bene tutto... ma tu invece che a sinistra... vai a destra... non posso chiaramente... scegliere questa immagine... e fare cance... e provare a toglierla... mi da questo errore... e mi dice che tu... non puoi rimuovere... una... questa immagine... perché tu la stai vedendo... in quanto... è presente nel frame... che è posizionato sulla finestra... cioè... io ho creato un frame... dove c'è quell'immagine... nella finestra... posiziono un'istanza del frame... vuol dire che viene creata un'area... con dentro l'immagine... ma io non la posso rimuovere... in quanto... dovrei andare a rimuovere del frame... se vado nel frame... e la rimuovo... la perdo dappertutto... ovviamente... quindi... questo è chiaro... che ogni componente... a questo punto... che io qui... vado ad aggiungere... se vado qui... prendo un button... e... premio invio... e lo inserisco... ok... da questo momento in poi... il mio pulsante... che sta qui... ha il pulsante... all'interno... se vado qui... ovviamente me lo trovo... perché qui... gli sto creando... crea frame 1... crea frame 2... e quindi... vedo tutto quello che c'è nel frame... perché io non sto creando... singoli oggetti... sto creando quel frame... il frame carica le proprietà... quindi carica anche questo button 1... e io qui... lo vedo... se però qui... decido di spostarlo... alle proprietà che il frame... configura per questo pulsante... io le sovrascrivo... in un certo senso... ovvero... prendo quelle... e faccio una variazione... ad esempio... nella posizione... siccome introdotto nel frame... e questo è comunque una cosa... che io customizzo... cioè... sto dicendo che nel form... questo doveva trovarsi... una posizione diversa... ma viene creato... nel contesto del frame... vuol dire che non lo posso rimuovere... potrei aggiungere... un nuovo componente... button... che finisca... all'interno del title frame... non me lo fa aggiungere... no... non me lo accetta... neanche nel panel... no... non accetta che io metta nulla... in questo title frame... lo metto sempre fuori... quindi non posso neanche... andarci ad aggiungere... dinamicamente cose... non lo posso... non posso variare... gli oggetti che ci sono dentro... ma solo le proprietà... la cosa carina... è che... se ho preso un pulsante... dalla posizione in cui era... come in questo caso... l'ho spostato... e mi sono sbagliato... e voglio tornare... alla versione originale... posso cliccare sul pulsante... e fare... revert... to inherited... vuol dire... questo pulsante... non lo elimino... ma riportalo... con le proprietà... al suo default... così come configurato nel frame... quindi clicco... e lui torna lì... se lo faccio sull'immagine... clicco... torna... ovviamente a sinistra... perché le sue proprietà... esattamente come erano agli inizi... erano... il frame... la prende... gli da una dimensione... la mette lì... io se creo il frame... recupero quelle impostazioni... però ne posso scavalcare qualcuna... se faccio un reverter... è come se lui cancellasse... queste impostazioni... e ripristinasse il default... cioè come se io qui... avessi detto... lo allineo a destra... e quindi faccio una customizzazione... vado nel testo... trovo la title image... qui... ok... e gli ho detto... sinistra e allineamento a destra... tolgo queste proprietà... quindi... perdo la mia customizzazione... se torno a vedere... la finestra... quelle vengono ricaricate... ed ecco che... ricompare... quindi... queste sono... inherited... vuol dire... prendo la definizione del frame... la scavalco... quindi... se la tolgo... vuol dire che... non customizzo ulteriormente... nel form... il suo aspetto... le sue impostazioni... rimangono quelle che erano... di là... all'interno del... all'interno del frame... quindi... il frame mi fa un po' da template... ma non è un copia e incolla... ma è un template... che io posso però dire... ok... però questa la customizzo... lo personalizzo un po'... posso tornare indietro... posso fare... questa serie di customizzazioni... quindi... posso tenerlo... e avere delle variazioni... in modo che... tutto ciò che io non ho variato... che rimane al default... se nel frame lo cambio... riflette le modifiche... il colore della label... eccetera... quindi... sono... molto interessanti... ad esempio... il pulsante non lo uso da nessuna parte... anche se io prendessi qui... lo customizzassi... questo lo sposto qui... questo lo sposto qui... vario default... se vado qui... e il pulsante lo tolgo... ok... quando torno qui... non vedo più nulla... perché... quando lui... mi fa vedere il form... va a ricaricare il frame... il componente non c'è più... quindi nel DFM viene eliminato... quindi... qui non posso eliminare una cosa... introdotta nel DFM... la DFM la posso eliminare... quello che tolgo... non c'è più... in nessuna istanza... quello che aggiungo... ci sarà in tutte le istanze... la... detto... quindi qui potrei anche dire... faccio una nuova finestra... ok... questo è il mio title label... quindi è il titolo... qui scrivo... benvenuto... oppure... home page... ok... questo lo tiro via... mi lascio... ops... devo tirare via il frame... eh... delete... ok... tengo solo questo... se io mi vado a fare... new... eh... form... un'altra finestra... se voglio aggiungere qui un altro titolo... scrivo... frame... mi fa scegliere il mio title frame... doppio click... mi fa la sua istanza... vado qui... e gli dico... caption... finestra... secondaria... eh... quindi... ok... mi chiedi di salvare... la finestra... demo... forms... second... o... other... other... other form... chiamiamola... non gli ho dato un nome... forse... eh... form1... non è un bel nome... other form... ok... e... legger son fatto... come diceva... quello... magari qui non mi piace... allineato così... lo metto... a sinistra... e... e poi... magari siccome è secondaria... invece che è verde... gli cambio il colore... tien... qualcosa del genere... e poi qui aggiungo... pulsanti vari... button... eccetera... mi posso mettere il mio button... posso dirgli... qui... button configuration... close... richiudo la finestra... farlo... default... cancel... assieme... ok... così... quando viene visualizzata... questa finestra viene chiusa... vado qui... button1... vado qui... e gli dico... altf11... che mi consente di usare la unit di un altro form... se voglio referenziare un altro form... devo... referenziare il suo tipo... quindi devo includere nella uses... il nome del modulo che contiene la mia... la mia form... in questo caso questo... lo uso nell'implementazione... quindi scelgo implementation... e me lo trovo qui... a che mi serve? mi serve perché... voglio fare questa cosa qui... voglio fare... l... other form... t... other form... create... vado a creare una nuova finestra... e metto questa finestra come... owner... e poi faccio... other form... magari... show... per visualizzarla... ogni volta che era una nuova... così... ogni volta che clicco ne crea una nuova... rendo la main responsabile della sua... distruzione... e quindi se lancio il programma... mi vedo... ok... cioè il... il benvenuto è questo che... è creato a runtime... eh... button1... vedo finestra secondaria... close... non me la... ah beh... perché non è una dialog... giusto... eh... va bene... così posso accedere... vedete che di finestre secondarie... ne posso creare quante ne voglio... perché... quel... other form... dice come si comporta questa finestra secondaria... ma la create... vuol dire... ne crea una nuova su cui lavorare... è un po' come dire... ho il progetto della macchina... e... eh... io non guido il progetto della macchina... io il progetto... dice... come la macchina è fatta... come si comporta... caratteristiche... eccetera... come è fatta... nel momento in cui... la fabbrica mi produce una macchina... quella la guido... ma il modello non la guido... qui la stessa cosa... la classe other form... spiega come... cosa fa questa form... in questo caso... al momento... solo come... come definita... come... come configurata... se voglio uscire... mi basta chiudere la main form... e così... chiudono tutto... la main form... finché attiva... l'applicazione gira... quando quella... viene chiusa... l'applicazione termina... e... va a distruggere la main form... siccome la main form... era anche... owner... cioè era quello... quel componente... che era... aveva la responsabilità... di distruggere... le altre finestre... perché qui... quando ho creato... le mie altre finestre... gli ho detto... tu sei l'owner... self... qui siamo nel contesto... della main form... quindi... self... vuol dire... che nel momento... in cui... viene cliccato... questo pulsante... io... finestra principale... vado... a... specificarmi... come... owner... di quella finestra... che viene creata... vuol dire che... se io vengo distrutta... distruggono anche... quelle finestre... infatti... poi appena... chiudo il main form... viene distrutto... vengo distrutta... anche l'altra... se vogliamo... aggiungere un comportamento... potremmo dire... intercetto il click... qui sul close... scrivo... me stessa... punto... close... ok... e... a questo punto... posso gestirle... posso crearle... ne creo una... ne creo due... ne creo tre... se premo close... chiaramente... self punto close... vuol dire che... ogni... ogni finestra... ha quel comportamento... a quell'evento... agganciato al pulsante... quindi ha una procedura che... eh... può essere richiamata... per chiudere la finestra... ma è anche incidentalmente... agganciata... al... al pulsante... in risposta al click... quindi ha questa particolarità in più... quando io faccio... self close... vuol dire che... sto chiudendo me stessa... cioè ogni finestra... eh... è definita da questa classe... ogni stanza della finestra che creo... è un oggetto... ogni oggetto... quando ho cliccato... ha un pulsante... quindi... tutte hanno lo stesso pulsante... ma ognuna ha il proprio... quindi... ogni finestra... è uguale alle altre... come comportamento... ma questa la posso mettere qui... questa la posso mettere qui... cioè... hanno entrambe le caratteristiche... della posizione... del pulsante all'interno... della dimensione... che può variare... per questa e per questa no... ma ognuno ha le sue... quindi ognuna chiude... con quel self... se stessa... perché dicevo... sono pericolose... queste variabili... che Delfi mette un po' di default... perché vorrebbe... auto creare le finestre... di default... io... di solito... lo vado a spegnere... quel setting... vediamo se c'è... se c'è ancora... auto create... no... vedete che... auto create... in creazione automatica... all'avvio del progetto... c'è solo la finestra principale... queste sono finestre... che sono disponibili... ma non vengono create... all'avvio... eh... tanto meno il frame... che non avrebbe molto senso... eh... perché è pericolosa... questa variabile... perché se noi... la utilizziamo... per creare la finestra... ovvero se io... vado nel programma principale... view source... mi copio questa istruzione... application create form... che accetta... classe del form e variabile... e la vado a mettere qui... ad esempio... scrivendo ovviamente... the other form... e scrivendo... other form... ok... qui... commento un attimo... poi ci... poi ne parliamo... other form.show... quindi non uso la variabile locale... ma uso questa variabile... è che molti... tendono a usare questa variabile... anche in questo contesto... ovvero... nella mia... other form... quando clicco... prendo il valore di... di questa variabile... e chiamo close... eh... quando creo la finestra... copio incollo del progetto... e faccio una create... mettendo in quella variabile... eh... l'istanza... c'è la finestra... che vado a creare... come oggetto... che è il mio... other form... e poi lo visualizzo... cosa succede... che... nel momento in cui io... lancio questa applicazione... eh... e clicco... ho creato la finestra secondaria... e ho messo il riferimento di questa finestra... in quella variabile... se clicco... rifaccio la stessa operazione... e ho messo in quella variabile... e riferimento la seconda... clicco... e ne faccio una terza... quindi per il momento... si direbbe che... non c'è nulla di strano... nulla di nuovo... ma se io faccio close... su una qualunque di queste finestre... anche sulla prima... per intenderci... in quella close... c'è scritto... other form... punto close... in other form... io vado sempre a mettere riferimento... all'ultima finestra che ho creato... quindi vuol dire che se clicco qui... in realtà mi se ne chiude un'altra... e se clicco ancora... probabilmente... sto chiudendo sempre la stessa... capite che quella variabile... è un po' pericolo... cioè una variabile globale... che se viene utilizzata... per riferirsi alla finestra... vuol dire che... in una variabile ovviamente... ci sta un riferimento... vuol dire che ogni finestra che creo... se ne creo più di una... metto il valore sempre in quella variabile... quando faccio la close con quella variabile... chiudo... l'ultimo valore che ci ho messo... ovvero l'ultima finestra che ho creato... quindi ovunque io clicchi... ogni finestra come comportamento... va in quella variabile e chiude... quindi chiude la finestra... con il riferimento che sta in quella variabile... mentre se io dico self close... vuol dire che ogni finestra chiude se stessa... è il motivo per cui... adesso qui chiudo... quando vi vengono create le finestre in Delphi... come suggerimento al netto della form principale... che è un po' particolare... questa variabile non andrei a togliere... in modo da non usare in maniera accidentale... quindi qui possiamo scrivere self close... oppure potremmo anche scrivere semplicemente close... davanti non c'è nulla... ma siamo nella finestra... questo close vuol dire... chiamo il metodo close... quindi chiamo la procedura... la funzione close... dell'oggetto in cui mi trovo... ovvero la finestra su cui ho fatto il click... questa cosa verrà più chiara... quando parleremo di programmazione di oggetti... quindi tolta quella variabile... qui non la posso più utilizzare... mi da errore... e quindi sono costretto ad operare una variabile locale... che va bene... e a usare quella per mostrare la finestra... ma quantomeno io uso una variabile locale... metto dentro il riferimento... visualizzo... questo riferimento lo perdo... il gatto è venuto a vedere se c'era da mangiare ancora... ma... secondo me tra un po' avrà i morsi della fame... e dopo i morsi diventeranno morsi per me... quindi... prima c'era in giro fatto... avevo la cam più ampia... facevo vedere... l'ho chiamato... e lui si è presentato... poi è andato via... l'ho richiamato ed è tornato... ogni volta quando vede che non c'è niente da prendere... non ha voglia di studiarsi... la programmazione quindi... quindi questo è l'approccio corretto... ovvero clicco... ho una variabile che ogni volta perdo... perché non mi tengo... la variabile esce dallo scope... cioè quando siamo qui... e l'abbiamo visualizzata la finestra... qui usciamo da questa procedura... questa variabile locale non esiste più... ma la finestra è stata creata e rimane lì... ogni finestra quando cliccata... se faccio close... chiude se stessa... perché non fa riferimento a una variabile specifica... scrive close... vuol dire... chiamo il mio close... questo è il mio... è il mio button uno click... la mia procedura... button uno click... che vado ad eseguire quando clicco sul pulsante... perché vado ad eseguire quella... perché se andiamo a vedere nel DFM di questa finestra... cioè nella presentazione del testo... e andiamo a cercare il button... c'è scritto che... qui sul long click... deve essere chiamata... la funzione button uno click... quindi questo button uno click... è una funzione della finestra... che è agganciata... al click sul pulsante... quando cliccato... quella procedura viene eseguita... e quella close che chiamiamo... è una funzione della finestra... è una funzione che noi prendiamo... da questo T form vuoto... che rappresenta il form tipico... e che noi estendiamo... perché nel nostro other form... altro form... rispetto al form vuoto... abbiamo aggiunto la barra del titolo... e il pulsante per chiudere... è più una procedura... che chiama close... se invocata... che è associata al click del pulsante... che la va praticamente invocare in automatico... quindi rispetto alla form vuota... è la form che ha un comportamento in più... però ecco... creare questa forma... vuol dire farne tante copie... che funzionano tutte in questo modo... ma ciascuna avrà il suo titolo... ciascuna va al suo pulsante... con le proprie proprietà... quindi questo è il mio progetto... che definisce il prototipo... che avrà ogni cosa... la finestra che vado a creare... e che manipolo... è la distanza concreta... è l'oggetto... è la cosa concreta... che ho ottenuto passando dal progetto... all'oggetto effettivo... questo dice... come è fatto... delle caratteristiche... l'oggetto è la cosa che concretamente... posso manipolare... perché la vado a visualizzare... la vado a ridimensionare... e la vado anche a chiudere... ognuno indipendentemente dagli altri... perché per ognuno di quelle istanze... di quegli oggetti... verrà creata una copia di questo title frame... quindi se creo tre other form... ogni other form... ha una copia del suo title... ha il suo titolo... quindi avrò... tre title frame... con dentro... il pannello... l'immagine... e la label che ho messo... la cosa che... forse non facciamo il tempo a vedere... perché è già un pochino tardi... è che... mettiamo che io decida... di fare delle finestre di dialogo... come ho fatto l'altra volta... quindi facciamo l'esempio di una dialog... faccio una finestra... ok... la dialog è la classica finestra... che serve per... ok... annulla... dare dei risponsi... quante ne avete... in un'applicazione tradizionale... una marea... cioè di solito sono poi... tutte più o meno simili... cioè hanno tutte la... una barra dei pulsanti... hanno tutte... un pulsante che annulla... che conferma... quello che... diciamo è diverso... è quello che compare... eh... nel corpo della finestra... cioè... dato che annulla però... cioè per dire... se qui visualizzo le opzioni... questa è una dialog... cioè una finestrona... che qua in fondo... ha i tasti save e cancel... e cambia la parte che c'è qui dentro... però se faccio project option... me ne compare una... che gli assomiglia... ok... che ha gli stessi pulsanti... però cambia le opzioni che vedo qui... eh... ecco... visualmente Delphi... ogni cosa che... deve essere presentata in maniera fine... uguale... può essere editata... qui in realtà quello che andiamo a esplorare... è un po' la programmazione oggettice... ehm... quello che faccio io... è dire... se io posso partire da una finestra vuota... e creare una versione personalizzata di una finestra vuota... che sono le finestre che abbiamo fatto fino ad ora... anche la mia finestra personalizzata... può essere un qualcosa... da cui io parto... per crearne una più specifica... mi spiego peggio... come direbbe... Gio Pizzi... ehm... io sono nella mia form... ok... questo diventerà il mio prototipo di finestra di dialogo... vuol dire che ne avrò tante... tutte fatte più o meno così... con delle differenze... quindi il concetto che abbiamo visto sul frame... di... posizione in una maschera... mi replica i componenti... personalizzo... ehm... non è utilizzabile solo come... prendo qualcosa... ne creo un'istanza... ne creo diciamo una... una copia funzionante... ma... può essere anche qualcosa che io posso utilizzare... per ereditare... creare... un template che non è una copia funzionante... ma è una copia di cui posso... creare delle versioni funzionanti... ecco questo è un po' il... un po' non scioglilingua... ma... andiamo a personalizzare questa finestra... mettiamo... dialog form... la chiamiamo... nella caption scrivo... dialog form... va benissimo... ok... me la vado anche a salvare... demo... forms... punto... chiamiamola... base dialog... punto... pass... ok... quindi qui... chiamiamola... name... base dialog form... ok... quindi qui... ho la mia finestra di dialogo... quali sono le cose tipiche... della finestra di dialogo... allora qui... cosa facciamo... dobbiamo pensare... ok... a tutto ciò che tipicamente... è la caratteristica... di una finestra di dialogo... ovvero... ad esempio... la posizione magari centrale... alcuni pulsanti sono di default... altri... sono di annullamento... magari un titolo... ecco... a proposito del titolo... qui possiamo metterci... doppio clic sul frame... title frame... e... qui possiamo dire... ad esempio... che... la mia label... la metto... a sinistra... e ci scrivo... nella caption... dialog... title... ok... quindi... quindi... eh... come... default... di solito... le finestre di dialogo... possono avere... un titolo di questo tipo... eh... poi cosa possono avere... scandiamo tutte le proprietà... quindi qui... title frame... magari ecco... gli cambio un attimo... il nome... io tolgo l'uno... che non è bellissimo... eh... che cosa hanno le tipiche finestre di dialogo... eh... allineate... no... non lo sono... però ad esempio hanno... border icon... non le puoi minimizzare... non le puoi massimizzare... System menu... ce lo lasciamo... eh... stile del bordo... eh... dialog... cioè... è più sottile... è fatto in maniera un po' diversa... rispetto a quelle tradizionali... la caption la lascio così... perchè tanto... eh... per ogni... finestra dovremo andare a customizzare... eh... il colore va bene questo... eh... custom title bar... no... default monitor... enabled... form style... on top... no... questo non lo andiamo a cambiare... eh... il menu non ce l'ha... quello che di solito ha... è una posizione... position magari... al centro dello schermo... quello si... rounded corner... ah... i dialoghi arrotondati... eh... però... small... no dai... lasciamolo al default... eh... show int... show int... task bar... nella task bar... di solito non viene mostrata... no... eh... tip mode... niente... queste cose direi che... windows state... non è né minimizzata... né massimizzata... è normale... eh... visual message... ho un'idea di cosa sia... non giuro che lo vedo... non vedo per la prima volta... che roba è... oddio... è questa... ah... si è quella per... ho capito... per i form... vabbè... infatti la documentazione è poi quella che è... ma... forse... t visual manager... non è documentato... non è... e secondo me è quello per i form MDI... quindi in questo caso non... non è significativo... colore trasparente... niente... quindi la finestra è a posto... chiaramente cosa abbiamo... abbiamo... il pannello... che... andiamo a configurare... per dirgli... niente caption... niente... niente bordo... nulla di nulla... però ecco... magari lo allineiamo... eh... lo chiamiamo... command... anzi... eh... dialog panel... lo allineiamo... alla parte bassa... e ci mettiamo... ad esempio i pulsanti... ok... annulla... quindi vado qui... button... eh... button... metto due pulsantini... li metto con una dimensione che possa andare più o meno... bene... magari anche customizzabile... tanto mi aiutano... le guidelines... che me lo fanno un pochino... eh... ok... quindi questo è... eh... quello di... ok... ci scrivo... ok... che dà come resalto... ok... questo ad esempio... è il... cancel... cioè quello di... annullamento... scusa... cancel così imposta tutto... quindi questo è bordato... se premo invio viene premuto... questo se premo esco nella finestra... siccome la proprietà cancel è true... viene premuto... poi... i nomi di default fanno un po' schifo... cancel... eh... button... e l'altro lo chiamo... eh... ok... button... magari nel... nel tab... nell'ordine di tabulazione... prima l'ok... poi il cancel... ok... nella finestra in generale... nell'ordine di tabulazione... parto prima dal titolo... e poi dal dialog... ehm... boh... è ridimensionabile... no... è fisso... quindi direi che questa finestra di dialogo... è quella tipica di una qualunque applicazione... mettiamo che voglio fare una finestra di dialogo... dove mi voglio fare inserire nome e cognome... ehm... cosa posso fare? o creare una finestra... e... o avrei potuto creare un frame... come dentro questa roba... in modo... ancoraggio dei bottoni no... ehm... sì... ottima idea... grazie per lo spunto... sì... facciamo le cose... a prova di... come dire... proprio... di... di bomba... non so se li ho messi giusti... cioè... sto piantando un chiodo... invece che in alto a sinistra... in basso a destra... in modo che... se muovo... verso destra... e muovo verso il basso... i pulsanti seguono... vabbè... potevo lasciarli anche in alto... in realtà ma... esatto... tutte queste customizzazioni... rifarle per una nuova finestra... non è facile... cioè... è facile ma diventa tedioso... avrei potuto mettere tutto in un frame... però... di nuovo... le proprietà del form... devo comunque andare a rimettere... e comunque... avere... a parte che nel frame appunto... non posso aggiungere componenti... e... quindi... farlo come form... è abbastanza interessante... potrei fare un form... dove... dinamicamente... vado a creare... l'interfaccia interna... però... mettiamo che io qui... voglia... aggiungere... un nuovo pulsante... ok... che mi saluta... inserendo nome e cognome... quindi... qui... scrivo... hello... name... hello... button... mi deve far vedere... una dialog... dove... scelgo nome e cognome... come la creo la dialog... io posso utilizzare... questa finestra... che fa parte del mio progetto... come base... per una nuova dialog... quindi... la mia dialog... è qualcosa... che attualmente... non ha particolari funzionalità... questo lo andiamo a togliere... per il discorso di prima... per sicurezza... per non farci... come dire... traviare... la mia base dialog... è un form... con questi componenti in più... ecco... quello che ha... se vogliamo... è un DFM... dove dentro c'è scritto... che però... deve essere dialog... le icone devono sparire... tranne quella di sistema... deve partire al centro... deve avere quel titolo... deve avere il pannello... con i pulsanti... che restituiscono queste informazioni... deve essere impostato... in questo modo... view form... quindi... come utilizziamo... questa dialog... grazie alla visual form... inheritance... che è un nome complicato... o... WFI... in defi... cioè... visual form inheritance... vuol dire... che noi visualmente... possiamo ereditare un form... ereditare cosa vuol dire... che io... posso creare un nuovo form... ma non parto... da tform... cioè... dal vuoto... ma parto... dalla mia dialog... e crea... un nuovo tipo di finestra... che... eredita... quindi... prende... tutto ciò che c'è... in una finestra esistente... ma non con un copio incolla... ma con... un legame... un riferimento diretto... quindi... ad esempio... io posso... eh... chiudiamo un attimo... a lei... è scoppiato... è scoppiato tutto... no... non è scoppiato... nulla... ma c'è... sta andando vicino... ok... se poi... va in crash... eventualmente lo... eh... quando succede così... tra l'altro... non so se... è qualcosa di... terze parti... o di Delphi... ma... a parte che c'ho... l'app ancora qui... che sto girando... l'unica cosa... si... è... chiudere... e riavviarlo... poco da fare... penso che... in tante live... non mi sia ancora successo... incredibile... quindi... incredibile... perché... cioè... comunque... so che durante il giorno... oggi ho visto... un paio di messaggi... dove... si diceva... che viene riavviato in continuazione... avendo dei plugin... integrati... spesso... questi sono... molto spesso... la causa di... questo genere di problemi... perché... essendo un IDE nativo... eh... quando uno di questi... diciamo... non rilascia qualcosa... o distrugge la memoria... due volte... chiaramente... ci sono dei problemi... però... vabbè... ripartiamo... no... no problem... eh... spero... quindi... la nostra form... c'è ancora... adder... vediamo se c'è ancora... si c'è ancora... eh... quindi cosa andiamo a fare... andiamo a fare... file new... altro... quindi andiamo ad aggiungere un nuovo file... oltre a... individual files... che è la finestra che abbiamo visto prima... con dentro appunto... la unit... le form... cioè dentro ci troviamo i componenti che abbiamo già usato... abbiamo anche questo nodino... ineritable items... elementi ereditabili... cioè elementi che possono formare una base da cui partire... e qui vediamo tutto quello che abbiamo nel nostro form... abbiamo la main form... non è che sia molto utile... l'altra form... abbiamo anche il frame... quindi questo vale... sia per i frame... sia per i form... ma abbiamo anche la nostra base dialog form... e vedete che l'opzione di default sono tutte spente... tranne l'unica accesa che è inerit... quindi scelgo base dialog... scelgo inerit... perché non c'è scelta... se faccio ok... ecco che vediamo la nostra dialog title... attenzione che questa non è quella di partenza... ma è nuova... infatti lo vedo dal fatto che si chiama base dialog form... che è il nome della classe 1... cioè... dovendo dare un nome al form... ha messo un 1... sul nome che è stato preso dalla finestra di partenza... qui dentro vedo tutti gli elementi che ho nella finestra... ma se vado a vedere ad esempio il codice... non trovo la dichiarazione... questa dichiarazione è vuota... questa la togliamo... qui che cosa mi va a dire... che questa finestra che ho creato... era edita da questa... che è la finestra... che era edita dalla finestra vuota... che aggiunge i pulsanti con quelle proprietà... quei comportamenti... quindi... praticamente io ho fatto questa cosa... questa operazione... ma invece che da una finestra vuota... sono partito da una finestra già preconfigurata... la finestra che ho creato... non è qualcosa che ho già posizionato da qualche parte... o istanziato... ma rappresenta di nuovo un modello... di cui io posso crearne n istanze... cioè... questa può diventare ad esempio... demo forms... cos'è che avevo detto... cercavo di inserire nome... name dialog... punto pass... gli cambio nome... la chiamo appunto... name... non volevo filtrare... volevo... name dialog form... chiamiamola... questa è una... è una classe... vuol dire che di queste finestre... ne potrò creare... infinite... infinite... e... eredita tutto il comportamento... della classe di partenza... ma... posso ad esempio... andare ad aggiungere... delle funzionalità... tipo... label edit... cioè... edit con... una... una label... in modo che io scrivo... direttamente... qui potrei scrivere ad esempio... nella label... ci scrivo... nome... ok... questo lo chiamo... name... name edit... la casella di testo... qui scrivo il nome... se... faccio... potrebbe essere anche... una selezione di un file... potrebbe essere quello che vogliamo... come la vado a creare? vado nel mio... main... creiamola qui... vado nel mio pulsantone... dove prima facevo la outer form... gli dico... aggiungimi... nelle unit... vedete che abbiamo due unit... da poter utilizzare... la name dialog... dove c'è la finestra... che chiede il nome... me l'aggiunge qui... eh... facciamo che... la inserisco qui... eh... name... form... t... name... dialog form... create... self... quindi... sto creando una finestra... di altro tipo... e la visualizzo... non è il modo corretto... con cui andremo a visualizzarlo... ma... intanto... prendiamolo così... faccio un run... quindi... quando clicco... ok... che mi appare la finestra secondaria... che poi posso anche chiudere... qui c'è la mia dialog title... eh... se clicco di nuovo... me ne appare un'altra di questa... e mi appare una nuova dialog title... quindi... questa dialog title... ha la casella... che ho inserito... e ha tutte le... le cose della finestra... da cui eredito... quindi ho creato una nuova... eh... non una nuova finestra... con cui lavorare... ma un tipo di finestra... di cui... come vediamo... io ne posso creare... eh... una, due, tre... mille stanze... cioè posso... eh... il tipo di finestra... dice che c'è una edit... una casella di testo... quindi ogni finestra... ha una casella di testo... ma ognuno ha la sua... qui c'è un... c'è un... qui ci scrivo Marco... qui ci scrivo... Paolo... qui ci scrivo... Antonio... quindi... eh... le posso chiudere individualmente... ognuno ha la sua... se clicco qui per chiudere... eh... dovrebbe chiudersi in automatico... ma non lo fa... perché dovrei chiamarla... come dialog... cioè come... finestra che non si chiude... finché non arriva quella sotto... finché non... eh... non arriva quella sotto... finché non lo chiuse... eh... come faccio a utilizzarlo? il mio Hello Button... qui potrei dire... ah... gli ho assegnato lo stesso evento... un click... perché ho fatto probabilmente... copia e incolla... quindi vado qui... gli tolgo l'evento... un click... in modo che... con un doppio click... lui me ne crea uno nuovo... ecco... non si chiama tutto button 1... ma ci sono anche dei nuovi migliori... eh... qui cosa vado a fare? vado a dire... eh... name dialog... ok... name dialog form create... posso non dargli un owner... perché? perché con il costrutto... tra i finali... che serve per dire... qui... andrò ad usare la mia finestra di dialogo... qualunque cosa succeda... devo passare per forza di qui... e qui ci metto la free... che... praticamente... chiama la destroy... cioè... qui creo l'oggetto... qui garantisco che venga distrutto... e qui lo utilizzo... ad esempio... posso dire... if... name dialog... show modal... cioè... fai vedere la dialog in maniera modale... vuol dire che sta lì... finché non la chiudiamo... eh... questo mi dà un valore di ritorno... ad esempio... mr ok... che vuol dire... ho premuto ok... eh... then... eh... show message... che è un po' l'alert di javascript... in delfi... eh... ciao... 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 virgola... e qui dovrei trovare... modo di recuperare il nome da quella finestra... eh... qui banalmente scriverò... eh... name... ah... scusate... devo usare... il più... sono abituato alla format... andrò nella finestra sul name edit... a prendere il testo che c'è dentro... questo non è proprio il massimo... non dovrebbe essere una cosa... dovrei creare delle proprietà... dovrei creare qualcosa di specifico... però ecco... se mi dà l'ok... scriverò ciao... altrimenti... non farò nulla... oppure ci scriverò... eh... boh... quindi... lui la crea... la visualizza... qualunque cosa succeda... vada in errore comunque... di cui ci passa... la distrugge... se di là diamo un ok... lui mi scriverà... ciao... col nome... eh... più... ci aggiungiamo... punto esclamativo... oppure... non mi hai detto il tuo nome... lancio questa applicazione... molto rapido... hello... quindi... mi trovo qui... ad esempio... una cosa che potrei fare... è già portare il focus su questo controllo... però... eh... faccio cancel... non mi hai detto il tuo nome... ok... riclicco hello... eh... qui scrivo... Marco... vabbè... se faccio cancel... mi dice sempre così... se scrivo... Marco... e faccio... ok... ciao Marco... quindi... ha funzionato... però magari io... potrei avere una... dialog... per... non solo il nome... ma per una fattura... per... una grafica di un cliente... ogni volta che ne voglio creare una nuova... file... new other... elementi ereditabili... base dialog... inherit... faccio ok... e lui viene a creare un nuovo tipo... un nuovo tipo... cioè... vuol dire che da quel tipo... io ogni volta che faccio create show... ne posso creare... e visualizzare quanti ne voglio... eh... ad esempio... potrei decidere... ma questo lo vedremo la prossima volta... di fare in modo... che tutte le mie dialog... abbiano una validazione... e se quella validazione... non è superata... la dialog non si chiuda... dove dovrei mettere... io questo codice di validazione... eh... cioè che spegne il pulsante... nella dialog di base... il problema qual è... è che... una dialog di base... eh... può dire... validiamo... e... abilitiamo il pulsante... solo se serve... ma la validazione... dovrà essere custom... per ogni finestra... questo... vuol dire che... dovrà stare nella finestra base... nella dialog base... come logica... ma la funzione che viene richiamata... dovrà essere in qualche modo... ridefinibile... all'interno di ogni dialog... affinché ogni dialog... quella del nome... guardi se il nome è stato valorizzato meno... quella del... questa chiamiamola... boh... customer... la chiamiamo... eh... forms... customer... dialog... poi lo andremo a riempire... questo è di nuovo un altro tipo... eh... di finestra... customer... dialog... form... e qui ci metterò altri controlli... quindi questo avrà altri criteri di validazione... eh... quindi visual form inheritance... vuol dire... ogni form può diventare la base... come utilizzo quella vuota... per creare un nuovo tipo di form... il quale potrà essere... istanziato una volta... visualizzato... buttato via... o visualizzato... n volte... questo vale anche per i frame... quindi... io questa finestra del titolo... potevo... questa barra del titolo... potevo farne... una con solo... la label... e magari il pannello bianco... ereditare da quello... e crearne uno... che a fianco della label... mette l'immagine... cioè... avere tutti questi strati intermedi... mi consente di creare... qualcosa di nuovo... a partire da qualcosa di esistente... senza però duplicare il codice... ma potendo fare delle aggiunte... e delle customizzazioni... differenziando qualcosa... ma tenendo anche quello che arriva dalla base... questo vuol dire... in due parole... non si duplica il codice... e... ogni modifica che io faccio... ad esempio... ho fatto due dialog... name dialog e customer dialog... qui non ci ho messo ancora niente... mettiamo che io qui abbia... cambiato idea... e... a fronte di qualche richiesta... io... questi pulsanti... li voglio rendere più... più piccoli... li voglio fare più grandi... li voglio... allineare in un altro modo... gli voglio dare un... un'icona... voglio iniziare a personalizzare... in qualche modo... ehm... non saprei cosa... elevation required... toh... così ci viene... ci è venuta la... elevation required... vi abilita... ehm... lo scudetto sulla O... ehm... qualunque dialog... io... vado ad aprire... ovviamente... si porta dietro questa modifica... senza... ovviamente... ritocchi... però... io... eredito... vuol dire che... questo l'ho ereditato... qualunque modifica faccio... me la porto dietro... ma se questo pulsante... lo prendo lo sposto... mantengo la mia nuova posizione... cioè... questo potrei metterlo qui... e... questo... la dialog rimane sempre lì... qui rimane sempre spostato... perché? perché quello della dialog di base... è un default... e qui... l'ho ereditato visualmente... e l'ho customizzato... ehm... ho fatto un po'... ciò non mi ricordo più dove era... voglio portarlo... alla... situazione originale... reverto inherited... e lui si... si posiziona lì... annulla tutte le sue proprietà... e riparte... dalla sua base... che è quella della... della dialog di base... da cui provengo... quindi... niente codice duplicato... eh... propagazione di molte modifiche... in cascata... in modo da tenere... eh... da poter... fare un ritocco... e riverberarlo su tutta l'applicazione... interfaccia coerente... perché una volta che la mia dialog... l'ho fatta... l'ho studiata bene... tutte quelle che creo... le creerò... a partire da quel modello... e quindi... vuol dire che... se c'è uno bravo... che ha disegnato bene la finestra... le farò tutte uguali... fondamentalmente... quello è il vantaggio... eh... eh... e se... c'è un bug... lo correggo in quella base... e viene automaticamente corretto... in tutte le finestre... cioè... mi sono dimenticato... magari qui... di mettere... che alla chiusura... questo pulsante... deve dare come risultato... eh... dov'è... moda resalto... ok... invece era yes... io vado qui... e scrivo... yes... l'ho cambiato dappertutto... su tutte le dialog che ho fatto... agendo in un solo punto... adesso va bene... ok... quello... ehm... però... in ogni dialog potrei customizzare... magari mi accorgo che su quella del customer... per farci stare i dati del customer... non c'è abbastanza spazio... io inizio a ridimensionare... ecco... siccome i pulsanti li ho messi bene con gli ancoraggi... eh... se voglio allungare o non devo... loro acquisiranno questa nuova posizione... ma non dovrò neanche riposizionarli a mano... perché... a livello base... eredito una situazione... che li rende già adattabili... per... qualunque customizzazione... quindi ho bisogno di più spazio... vengo più giù... questi mi seguono... eh... gli sto customizzando a tutti gli effetti... ma... eh... è chiaro che voglio riportarlo... all'inizio... reverto inerite... detorno... e torno da capo... ehm... quindi posso customizzare per caso... però... chiaramente questo se clicco... non lo elimino... perché l'ho ereditato... dalla finestra di base... mi dice appunto... stai... eh... eliminando... con una selezione... che include... un... un controllo... un componente... ok... button... che è stato introdotto in un... antenato... cioè in un qualcosa da cui tu derivi... quindi... quella parte da cui tu derivi... lo crea... quindi tu non puoi... dire... adesso non lo voglio più... è chiaro che io... posso mettere qui un evento... un create... andare lì e distruggerlo... però... o lo faccio da codice... ma... a livello visuale... non posso fare questa cosa... eh... decido di mettere... non so... qualcosa di nuovo... nella dialog... tipo un testo d'aiuto... vado qui... metto la mia label... la... metto qui a sinistra... la metto in... boh... magari anche in autosize... perché potrebbe... il testo potrebbe variare... eh... help... label... magari gli do un colore... eh... bluastro... qualcosa che... che voglia richiamare... il fatto che sia un testo di aiuto... eh... eccetera... la lascio lì... da questo momento in poi... io salvo... nella base dialog... ogni dialog... compresa la customer... avrà... questa help label... e qui... gli scriverò... ehm... compila i campi... compila... giustamente... del cliente... eh... qui nel... dialog... scriverò... cioè... già me la trovo... e quindi... vado a personalizzare... dicendogli... preferisco farlo da qui... che così... non aggiorno alla label... ogni volta... tipo... aggiunge componenti nel pannello... sì... penso di sì... poi aggiungi nel pannello... non è come il frame... è qua... il frame... è da vedere... come una scatola... con dei controlli... che sono... selezionabili... perché li posso customizzare... ma non aggiungo nulla... qui ho ereditato... quindi vuol dire... ho preso tutto... ma posso andare ad aggiungere... anche dei componenti... eh... quindi qui posso scrivere... inserisci... eh... il tuo nome... qui sopra... adesso è tutto... esemplificativo... ovviamente... eh... sì... qui nel pannello... posso aggiungere... ovviamente... dei pulsanti... cioè... il pannello... lo eredito... come created... però... ex novo... solo in questo dialog... quindi... il pulsante... viene inserito qui... viene creato... solo nella name dialog... ma... viene visualizzato... dentro il pannello... che io ereditato... da qui... bisogna stare attenti... perché se di là... tolgo il pannello... vabbè... se tolgo il pannello... penso che il pulsante... finisca... forse viene rimosso... non voglio fare la prova... ma... ovviamente... prima di cancellare... bisogna sempre fare... le dovute... i dovuti controlli... però... ecco... questo è molto interessante... anche quei frame... funziona... allo stesso modo... quindi... new other... in heritable items... vado a cercare... il mio title frame... faccio ok... ho creato... un nuovo tipo di frame... che si chiamerà... title frame 1... da title frame... dove... io raise tutto quello che c'è qui... quindi... immagini... pannello... tutto il resto... posso fare customizzazioni... posso fare delle aggiunte... se non lo salvo... ma... quindi... se avete una dialog... ad esempio... che fa vedere... una griglia... altre che non fanno vedere nulla... ma fanno una selezione... potete fare... dialog di base... dialog con la griglia... e tabella customizzabile... dialog per la selezione... dialog... cioè... qui possiamo... nel momento in cui io... creo qualcosa che eredita... oltre... io posso partire... da base dialog... posso partire... anche da customer dialog... o da name dialog... cioè... ogni finestra... fa da punto di partenza... e diventa a sua volta... un punto di partenza... quindi io... potrei... top down... partire da una finestra... vuota... con delle funzionalità di base... una che fa da template... con caratteristiche in più... un'altra che ne aggiunge... altra... e a seconda di quello che voglio... e non voglio... scegliere il mio punto di partenza... chiaramente... quando scelgo un punto di partenza... se quel codice... l'ho usato altrove... ed è ben testato... vuol dire... che io mi posso concentrare... sulle feature... della cosa specifica... che vado a creare... e... so che se trovo un bug... localizzato... lo correggo lì... ma se lo trovo in una finestra base... il fix... lo riverbero ovunque... quindi... e... e poi c'è il vantaggio... di poter progettare visualmente... proprio in questo modo... cioè... se parto dalla name dialog form... e eredito... io visualmente... vedo... quello che è una name dialog... la dichiarazione la trovo vuota... perché? perché questa... parte da zero... ed è... una dialog... una finestra... che era edita... da una finestra... che aggiunge... un name edit... e un button... che sta dentro il panel... in una finestra... che fa... la dialog base... che a sua volta... parte da una finestra vuota... questo è il codice... che è già comparato in DeFi... che è già scritto... all'interno di DeFi... quindi... questa è una cosa... estremamente comoda... e una volta che si impara a utilizzare... conforme i frame... è utile anche per dividere... ad esempio... lavori... su chi può essere più skillato... sulla grafica... e magari fa un po' di progettazione... di dialog... fa un po' di raffinamenti... qualcun altro invece parte... e inizia a editare... e inizia a riempire delle interfacce... cioè anche il team... si può strutturare... per avere... per usarli... come una sorta di guida... cioè... devo fare una dialog... magari la faccia fare... a persone diverse... c'è chi magari ha... in cura... il fatto di... tutti i pulsanti... c'è chi invece... la fa brutta... non mette neanche l'icone... io... potrei dire... io... sono skillato... conosco bene Windows... ho fatto un template... ho messo tutto lo stile... ho messo tutto a posto... tu... parti da quella... e sai che... quando ti dà l'ok... ti puoi andare a prendere i tuoi valori... e metti i componenti che servono... quindi... è utile anche per... fornire una guida... allo sviluppo visuale... dell'applicazione... che è una cosa molto molto... eh... interessante... e... secondo me... è anche... abbastanza... abbastanza... abbastanza potente... la prossima volta... magari vediamo... eh... qualcosa di... come dire... derivato da questo... mh... da questo principio... eventualmente... creando delle cose... a non-time... e vedendo ad esempio... come possiamo fare... un'applicazione che è strutturata in pagine... ad esempio... questo può essere un... uno spunto... ad esempio... la classica... eh... interfaccia stile... stile Outlook... eh... vecchio Outlook... in realtà... perché adesso il nuovo Office... è tutto un... è tutto un casino... quindi tutto... fatto in maniera un po' diversa... adesso... questa non la salvo... ma... spero che il concetto... eh... i concetti che mi hanno fatto vedere... siano abbastanza... eh... consolidati... poi la prossima volta... magari parto esattamente da questo... eh... da questo progetto... per andare ad aggiungere... un... un pochino di cose... eh... che sono un'ulteriore aggiunta... alla... alla Visual Form Inheritance... e quindi... per vederla meglio... e vederla un po' più nel dettaglio... eh... ad esempio... facendo un'applicazione strutturata a pagine... eh... quella classica applicazione... o con dei tab... con la TriView... dove... noi... come dire... clicchiamo... eh... andiamo a selezionare magari... abbiamo magari un albero per navigare... oppure un selettore di pulsanti... cliccando noi... nell'interfaccia... vediamo qualcosa di diverso... e invece di ragionare con... finestre... noi clicchiamo su un'opzione... e nella parte principale del form... vediamo apparire... eh... la videata... che ci consente di gestire... eh... la cosa che vogliamo editare... come le vecchie... interfacce di Outlook... per intenderci... adesso se lo vado a cercare... eh... Outlook... Microsoft... GUI... le vecchie GUI... se mi... mi capi di trovarne una vecchia... ma... va bene anche una abbastanza... eh... moderna... ecco qui... non ragioniamo... come dire... come lo potrei anche tenere... come immagine da usare... come template... qui non ragioniamo ad esempio... in termini di... form... a meno quando creiamo... abbiamo qui un... una cosa gradevolmente... no... visibile... abbiamo questa... preview... quando clicchiamo... qui c'è qualcosa che cambia... se clicchiamo su qualcosa di diverso... cambia qualcosa qui... ecco qui... ci vengono molto in aiuto... i frame... eh... creati a runtime... dove magari possono avere... una barra comune... con delle cose customizzabili... cioè si possono fare... delle... interfacce molto flessibili... e molto interessanti... eh... in Delfi... con... questo approccio... in realtà mi riferivo... a qualcosa di un po' più classic... tipo... questo... ma anche qui non... non siamo molto distanti... ecco... forse questa è quella... un po' più... eh... un po' più classica... appunto... dove cliccando... qui di fianco... noi visualizziamo... a destra... le... le nostre... la... la pagina che vogliamo vedere... ecco... non andiamo a videate... che dopo... non sai come gestirle... oppure... vabbè... che adesso il nuovo approccio MDI... con i tab... potrebbe essere interessante... ma... abbiamo qualcosa che qui viene creato... mostrato... se clicchiamo su qualcos'altro... questa parte se ne va... e ne arriva un'altra... quindi... questo qui frame... è abbastanza facile... da fare... ci servirà però comunque anche... un frame di base... perché... ognuna di queste pagine... avremo un frame... che rappresenta la pagina generica... poi una pagina di un certo tipo... è una pagina di nuovo... ancora più specifica... quindi... vedremo un po' questo approccio... che potrebbe... eh... farci vedere ancora meglio... le potenzialità... della... visual form... inheritance... facendo un'interfaccia... diciamo... all'outlook... però... vabbè... non proprio identica... ma... quantomeno similare... ecco... questo è un po' il... quindi... quindi... andiamo qua... non mi sono perso dei messaggi... direi... direi di no... bene... meglio... perché ogni tanto... perdevo di vista... il... lo schermo... eh... ovviamente... non c'è mai nessuno... che... faccia un po' di... programma... ho usato due bit... per fare il tifo... non avevo mai visto l'immagine... del... eh... sui... i Ciri bit... le varie cose... ho preso le immagini di... 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 di Silicon Valley... che infarto... sì... effettivamente... forse devo abbassare un po' un po' l'alert... sono un po'... un po' alti... quindi... vabbè... potremmo fare il ride a qualcuno... che si sta facendo le unghie... in ASMR... no... dai... stavo scherzando... non c'è nessuno che fa coding... in italiano... c'è qualcuno che fa... scacchi... che... che... ah... Michele Steven... ecco... potremmo fare un ride... un vero... esperto di javascript... che vi consiglio di seguire... sta... sta giocando a scacchi... quindi probabilmente stasera... non è... non è in vena... però... soprattutto su... Typescript... su... Svelte... eh... la trovo spesso in live... anche da Fabio Biondi... e... quindi è interessante... dai... buonasera... Google Developer Expert... quindi... come dire... eh... roba di qualità... quindi si potrebbe... fare un ride a lui... eh... niente... grazie... a Giancarlo... per i bitini... che non so... in realtà cosa comportano... perché so che sono... a pagamento... perché io li compro... perché... in un altro canale... mando... gli effetti sonori... per far spaventare le urla... e quelle cose lì... soprattutto durante i giochi horror... è molto... è molto divertente... però... eh... però... si va a... come dire... volumi di 50... 100... e quindi... in questo caso... però ragazzi... così andrò a vedere... se comporta qualcosa... diciamo... l'importante è il tifo... ecco... questo è... è l'importante... quindi dai... preparo il ride... prima che vada... nanna anche lui... come faccio io... grazie... come sempre... a tutti i presenti... quindi... a... Muzio... Andrew... Vision... Giancarlo... eh... poi... chi c'era prima... C'è... Criccolo... stavo guardando l'elenco... dei partecipanti... vedo anche mia sorella... cosa fai lì dietro... cosa... cosa fai dietro... a Uma Uma... ti vedo eh... quindi... e smettetela di scrivere per domani sera... che sono impegnato... sto facendo la live... e dopo vi rispondo... per... la cena da mamma... che qui... bisogna sempre stare... stare all'occhio... bisogna stare attenti... esatto... che mi... che mi... viene sott'occhio... preparo il ride... niente... la prossima live... direi... prossima settimana... c'è un altro beat... c'è un altro... andate a vedere... Silicon Valley... che è un gran... un gran film... grazie a Giancarlo... troppo... troppo gentile... fa il tifo... è comparso... un'immagine strana... cioè... una cosa che si... va bene... dai... non vi tedio... quindi... grazie di nuovo... buonanotte a tutti... direi ci vediamo... martedì prossimo... andremo avanti con... nuovi argomenti... rimanete giusto per il ride... per vedere qualcuno che... che sviluppa... parli di quello con Bill Gates... no... è... prima che se ne vada... sempre se non se ne è già andato... e... grazie di nuovo... non dico buon weekend... perché è ancora presto... però... buon weekend... perché comunque... non ci rivediamo... e... grazie a tutti... e direi... alla prossima settimana... ciao... e... buonanotte... ciao ciao... ciao...